A parte il gatto sul tubo ma è live da due ore ormai quindi Ho fermo che sei in live A me non pare Ti ho fatto Questo controllo meglio Eh partita Sì titolo buono Che fatto lo switch tra la modalità formale e modalità mod Bene signori siamo live Perfetto c'è stato un pochettino non riuscirò a vedere la chat porca miseria Per questa merda di Ho avuto dei problemi tecnici Meglio così Però perlomeno adesso siamo live Ah yes Adesso cercherò Aggiungerò qui allo schermetto del master Anche twitch Dice se hai pad Esatto Sì Che bella questa cosa Che bella Non è colpa tua se twitch ha problemi Per una volta che è twitch che è boomer Allora il trucco è stato che invece di utilizzare il server consigliato ho dovuto utilizzare Il server di Milano Proprio dirgli no io non voglio quello consigliato che mi dai in automatico Mi dai quello italiano Quello Infatti siamo già uno Abbiamo già un Ah sì Fammi Tu ne hai che bella teoria Giusto Eh sì Vuoi cambiare te? Arriva un attimo In teoria noi in mod non abbiamo i permessi per farlo Quindi Ah è vero Sto controllando e non mi da Perché qualcuno non vuole dare abbastanza permessi Non vuole far fare gli altri Ma perché io devo fare Ho paura che vi prendete carà Ho paura Eh magari scrivo mostrando i mail finalmente nel titolo Esatto No Avrebbe ragione Mi rifiuto Eh sì ma capisci che su tre mod uno si rifiuta e gli altri due sono d'accordo Infatti Ci puoi provare Beh potrei dare a cambia categoria Sì grazie serpentolone Scusate ragazzi abbiamo avuto dei problemi tecnici Dovete a Proci Abbiamo È proprio Twitch che ha avuto dei problemi tecnici Che sta avendo dei problemi tecnici Mi sono appena ricordato Il nuovo nome di Proci Perfetto abbiamo la categoria giusta Prima di tutto Prima di tutto Mi dovete dire Ragazzi Signori della chat Come mi Come ci sentite Siete carichi E se ci sentite soprattutto Ah qual è il problema Sentirci credo ci sentano Il problema è come Il problema è come ci sentono Esatto Aaron sculo Aaron sculo Allora la chat Anche se su ti mi provo Ho fatto io il tiro più alto Prova Sì Sì Perfetto Ora posso vedere Aspetta che eravano quelli importanti Adesso ho la chat Ogni tot La vedrò La guarderò Perfetto Signori L'audio è buono Dicevenne L'audio è buono Signori Oggi l'unico problema è stato Twitch Con i problemi del Sanni Sanni Non dirlo troppo presto Ti ricordo la volta scorsa A metà sessione più o meno Sì però dai Buonasera Buonasera a tutti Fatela gioire per due secondi Per favore Datemi una gioia Per cortesia Tu fermo con quei dadi L'occhi L'occhi No No Per una volta che qualcuno Ma chi è che ha tirato Ha fatto uno Ho fatto io Hai fatto uno Svei cai così De fatto senza senso Meglio così Signori Senza senso Ma che è Meglio ora che dopo Meglio ora che dopo Bravi bravi Esatto L'unico che ha buttato un tiro buono Sono io Infatti ne pagherò le conseguenze Ecco Ebbene Ebbene Che brutta cosa Non vedere la chat Su PPS Ma Siamo tutti Siamo alla terza puntata Signori Siete contenti Siete carichi Più o meno Ragazzi però Un pochettino più di vita dai La voglia Mi sono messo in full hd Io lo dirò sempre Sono troppo vecchie per queste cose Sono troppo vecchie Non sono più nella classica nebbia di Milano Insieme Un giorno ti facciamo esultare Ma proprio pesante Il roleplay Ci dobbiamo riuscire Il mio obiettivo per la campagna Basta ho deciso A risultare un bris Buona fortuna Ma il nostro obiettivo della campagna è andare sulla luna Hai ragione anche tu No No Non ci vado sulla luna Maledizione Devo mettere ad apparte i soldi Vedi che Bene Vedi che Così lo facciamo urlare a scorcio Fermi un attimo che vedo Angie bloccata Oh no Oh no Ma proprio questa parte No Ragazzi click Oh no Fermi Danni Ok Mi ricordi Sì sì Trovate ragazzi Sono stato umbris per un secondo No Io sono stato caino per un secondo No Per un secondo Era dovuto mettere a passare Bene signori Siamo arrivati alla terza sessione E direi che è il momento di addentrarci di nuovo Nell'atmosfera Di questa campagna L'ultima volta È successo a dir poco un casino Durante le loro indagini I nostri eroi No non li chiamo eroi Non sono eroi Per quel che mi riguarda non sono eroi Sono i nostri protagonisti I nostri protagonisti Hanno fatto una capatina A Southwark Bridge E nel cercare di capire Chi fossero due particolari individui All'apparenza sospetti Hanno inadvertitamente provocato Una serie di eventi Che hanno un po' Scombussolato Gli esseri umani Che a quell'ora Passeggiavano lungo il ponte Arwan è andato dietro Una delle figure Scoprendo che si trattava Di una giovane ragazza Mentre Umbris e Calipso Si sono ritrovati a fare i conti Con un losco figuro Di cui non sono riusciti a vedere il volto Che non appena è entrato in acqua È riuscito a non solo battere In velocità nel nuoto Umbris Ma è riuscito anche a creare Un grosso mulinetto Che stava per inghiottire Lo stesso Umbris E da qui Dopo che Caino È riuscito A rincorrere E vedere dove Quest'ultima figura È riuscita a scappare Da qui riprendiamo Arwan Tu E la misteriosa ragazza Siete Ancora per strada Io le avevo detto Di spostarci in un vicolo Da qualche parte Dove non c'era nessuno Così mi ritrasformavo Intanto potevamo fare dopo Quello che voleva Ok Tu sei prima Ad andare dentro Il vicolo No no Io mi poso sulla sua spalla Aspetto che lei Entri nel vicolo Ok Lei è ferma Davanti al vicolo E È molto nervosa Ti guarda Ti lancia Delle occhiattine fugaci E Praticamente Guarda un po' Il vicolo davanti a lei Un po' Lo vedi Che è indecisa Intanto sei davanti al vicolo Io saltello giù Approfittando del fatto che Ci sia lei davanti Saltello giù Mi ritrasformo E mi sistemo il cappuccio Della felpa Girandomi poi verso di lei Con le mani in tasca Sei un Cosa sei? Un mezzo fatato Come Il tuo amico Dave Poteva andarmi peggio E entra nel Sì Poteva essere Poteva essere Una fatta normale A quanto pare Benjamin Ti ha già parlato Di me No Non mi ha detto Niente L'ho capito E basta Ah È così evidente? Si Si mette Si mette Una Quando hai Un naso Come il mio Si mette Un naso Come il mio Per certe cose Fammi parlare Carc Vai Si mette Dietro Un'orecchia Una ciocca Di capelli E tu Riesci Comunque Se prima i capelli Erano Le incorniciavano Il viso Erano Lunghi E comunque Un pochettino Le copriva Nei lati del viso Tu Adesso Vedi chiaramente Che lei È molto Smunta Proprio Si vedono Gli zigomi Per quanto Il viso È È magro Esco fuori Dal veicolo Vabbè Iniziamo a tornare Sul ponte Intanto Possiamo Fare una chiacchierata Perché non possiamo Fare una chiacchierata Qui? Vuoi rimanere Ferma A parlare In un veicolo Al posto Che camminare Beh Hai idea Di quanto Pussa Di spazzatura Nulla Qui non si è Abituata E inizio a camminare In che senso Sei abituata Alla spazzatura Lei Non ti segue Subito Ti segue Quelle come me Dopo che sono state Scoperte Non vivono Una bella vita Ah sì È vero Dimenticavo Che cercano Di vendervi Comprarvi Eccetera Eccetera Sì Sì Brutta storia Brutta storia E Cammino Beh Cosa Voleva Da Bandami Bandami Ah Non lo so Mi hai detto solamente Che doveva parlarti Ma Hai detto Che è una casa Comunque Sì Per strada È un Un Oh Per l'idea È una Quei due Non hanno fatto Proprio niente Dave Mi aiuta Qualche volta Ma Benjamin Lui Ha delle condizioni Oh Per l'amor del cielo Benjamin Sui soldi Ragazza Non vuoi un lavoro Lavorare Per un mezzo Fatato Esatto E quale sarebbe Questo lavoro Beh Alla mia cameriera Serve una mano Da un po' Quindi Semplicemente Pulizia di casa E Tutto quello Che ne conviene Vito Alloggio Pagati Cibo Anche Vestiti pure È troppo bello Per essere vero Dov'è la fregatura? Beh la fregatura è che sono uno stronzo Definisci stronzo Mi sa che Nerin Te lo potrà spiegare Meglio Ovviamente Sei libero Di rifiutare Però Nel frattempo Tiro fuori Una copia Delle chiavi Dell'hotel Se vuoi dormire Sul letto E gliela passo Prendi le chiavi Dell'hotel E guarda Puoi giurarmi Che non ci sarà Nessuna Ad aspettarmi Pronto a imbavagliarmi A vendermi A imbavagliarti No Probabilmente Ci sarà Probabilmente Ci sarà una ninfa Che È in casa con me La camera Di cui ti parlavo prima Dille che ti mando io Tutto a posto Mi devi fare Un persuasione Iniziamo Con Con Un Guardalo lì Che rimorghi Subito Con un Meno due Scusate È facile Con un Meno due Vediamo Non ci credo Non ci credo È successo Di nuovo Dillo tu Cosa hai Cosa hai appena fatto Ho fatto Snake Eyes Come Come capita Ogni tanto Due volte In tre sessioni Non ci voglio credere Oh mio dio Lei Guarda ancora Guarda Dovevo tirare Era un contrapposto Praticamente Ma Hai fatto Snake Eye Quindi Peggio di così Lei guarda La chiave È combattuta È combattuta Lo vedi che è combattuta Poi a un certo punto Squatte la testa No No Ti ringrazio Ma preferisco Prima sentire cose da dire Benjamin Oh certo Riprendo le chiavi Beh Giustamente Mi sembra giusto Se vuoi sentire Cosa hanno da dire Posso accompagnarti Volevo dire Tre alberi Però mi sa che Benjamin Ormai Ha finito la birra Dave Dobbiamo Passarci dopo Che abbiamo finito qui Perché dovete Parlare con Dave Che sta succedendo Prima seguite me Poi Mi offre un lavoro In realtà In realtà Non stavamo Seguendo te Stavamo seguendo Chi sta facendo casino In città Abbiamo chiesto a Benjamin Se sapesse qualcosa E ci ha detto Solamente Ci ha parlato di te Un'altra pista Che abbiamo Un'altra pista Che abbiamo È Dave Quindi Dovremmo andare a parlare Con lui dopo È semplicemente Una coincidenza Probabile Allora signori Mi dicono Per i signori spettatori Lo Snake Eye È praticamente Il fallimento critico Del sistema Di gioco Savage Wars Ovvero Si fanno Si fa doppio uno Sui dadi Che si tirano Ovvero Il dado abilità O tratto Che il personaggio Deve tirare E il dado Del destino È sempre Un di sei Se il personaggio Fa doppio uno Snake Eye Occhi del serpente Fallimento critico E le conseguenze Sono disastrose Lei comunque Ti guarda È stranita Da quello che Le stai dicendo Non ha Non riesce Bene a capire Che cosa C'entri Lei in tutto questo Lo vedi Dalla sua espressione Però continua A seguirti Anche se Mantendosi A dovuta distanza Effettivamente Possiamo Anche Evitare di aspettare Prima di tornare Da l'uno Dall'altro Tiro fuori il telefono Metti il viva voce Chiamo Benjamin Telefoni Benjamin Ti suona Pronto? Ehi Ben Sei in viva voce Ho trovato La tua amica Ah Grazie Signora Arwan Ma Non doveva Per forza Chiamarmi Per Una simile Piccoletta Bastava Che la Oh no Diciamo che Diciamo che Ci sono un paio Di cose Su cui doveva Metterci d'accordo Io e lei E Non mi sembrava Troppo convinta Dall'idea Diciamo che Le ho offerto Un Un lavoretto Signora Arwan Se lei Ha rifiutato Non vedo Perché Chiamarmi Non ha rifiutato Ha detto Che doveva Parlarne Con te Prima Lei C'è C'è Lei che Si è fatta Piccola Piccola E Lì che Tentenna Dall'altra parte Del telefono Benjamin Non dice Niente Io Veramente Ne volevo Parla In privato Con Benjamin Volgo il Viva voce Ne passo il telefono E Vado avanti Vado più avanti Ok Siamo tornati Ormai sul ponte Sì Era abbastanza Vicino Ma lei Comunque Rimane Distante Da te Io Mi guardo Intorno Perché Comunque Anch'io Ho un'altra Cosa da fare Dogazzo Sta Crispino Ma se Se lei Ritorna Sulla strada Io mi Infilo Nella sua Crispino Tu sei ancora Tu Devi dirmi Com'è che Segui Arwan Com'è che Lo segui Arwan Lui Era nel Viale Era in Una Viuzza Prima E Stavo Parlando Quindi Stavo aspettando Lì al Bordino Ora Si era Ritornato Sulla strada Quindi Lì Lo stavo Seguendo Ok Se vuoi Fare Un Se vuoi Fare Un Tiro Di Fortività Per Comunque Infilare Non farti Vedere Da nessuno E Magari Arrampicarti Senza Che lui Se ne Accorga Di Novo Nei Suoi Vestiti In modo Che Una Certa Ragazza Non Se ne Accorga Ok Se 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 Accorge Ok Quello L'altro Scorso Perché Si è accorto Allora Fortività Fortività Let's go Vai Mi tiro Benni Tantanto Una diciassette Benni Sette E ha fatto Sette Signori Sette Numero Magico Il tuo successo Ti dà la possibilità Di Tranquillamente Sgusciare Tra le ombre E Infilarti Ovviamente Faccio in modo Che Arrampicarti Ma non se ne rende Conto La ragazza Che lo accompagna Prese Vestite E tu ti ritrovi Di nuovo Nel suo Cappuccio Lì Io Ho sentito La discussione O no Sì L'hai sentita Dai Per sicurezza Posso fare un percezione Su di lei Per capire Il suo smunto Da cosa è dato Del fatto che Vive in strada Se è stata Picchiata Se è solo fame Vorrei capire Il suo stato Allora Fammi un percezione Un successo È chiaramente Malnutrita E A parte quello Diresti Non ha Libidi O altre cose Ma tu Noti che Su una guancia C'ha un Cerotto Quindi Quindi non È scippato È È scippato Cioè è vecchio Questo cerotto Quello Non lo riesci a capire Se è vecchio Oppure no Per te È un Semplice cerotto Che sta su una guancia Quindi Non Sì Il suo principale Problema per te È che sia Malnutrita Però Quel cerotto Ti fa un pochettino Sospettare O comunque Tu non sai Se quel cerotto Stai lì Perché magari Si è fatta del male Per sbaglio O se per caso Qualcuno L'ha colpita Fino a camminare Con Raghu Magari Stiamo tornando A Trenadri Quindi No Stiamo Stiamo Siamo Sul ponte Per vedere Lo sappiamo Se loro sono ancora lì Oppure no Infatti Io stavo Tornando lì Per vedere Se C'hanno di nuovo Adesso che non li vedo Tiro fuori l'altro telefono E gli chiamo Gli chiamo Calypso Molto banalmente Trin Trin Rispondo Fabi Fabi Dove Comunque Ho telefoni L'ho già usato Dove siete finiti? Dall'altra parte Del ponte Ok Ok Perché siete finiti Dall'altra parte Del ponte L'hai visto Umbris Prima Si è buttato in acqua Anche l'altro Maledizione Sì E volevo buttarcelo io Però Ha fatto tutto C'è un'altra parte Cristiano Spero Di sì Per Umbris Comunque Non mi ricordo Noi ci siamo riuniti O ci sono soltanto Io qua No no Erovate Arrivati L'avete seguito Fino alla torre Se non sbaglio No Io l'ho seguito No Caino Caino Ha visto Caino Aveva visto Che Lui si rifugiava In una torretta Più avanti Addirittura Riuscendo ad arrivare Davanti a un altro ponte Ok E ricordavo Ricordavo bene Allora Quindi ci sono Soltanto io qui Sinceramente Non so dove siano Gli altri E mi sporgo dal ponte Per vedere se Vedo Umbris Da qualche parte Ma Oddio Se guardi dell'acqua Non mi vedi Se guardi invece Mi c'è una arriva Mi vedi Cambio di scena Anche Anche perché Poi se non sbaglio Tra l'altro Era solo Umbris Che l'aveva visto O solo Caino Che l'aveva visto Di là No Solo Calypso L'aveva visto Me l'ha comunicato a me E io sono partito Ok allora Calypso Sa che Che s'è andato Il tizio Sa che io sono andato A seguirlo Non Nient'altro Io so solamente Che ha I capelli rosa E la pelle mulata Basta Cosa chissà Un braccio Mi ha detto È un braccio Cambio di scena E adesso Rivediamo Umbris Che È ancora È ancora Nel fiume No sono uscito Era uscito Comunque Si Era comunque Sei Appena uscito Dal fiume E sopra di te Insieme a Calypso Sono umano Sono umano Altra gente Sta guardando giù Tu sei umano Quindi non ti fai I grossi problemi E poi sono più scuri Cosa fai? Controllo Dove sono le scale Più lontane Per salire su? Le scale più lontane Sono Avanti Ma proprio Se tu adesso Sei Sulla sponda Nord Del Tamigi Proprio sotto Il ponte Di South Park Bridge Dovresti andare Più ad est Per Riuscire Ad avere Un'altra scaletta A disposizione Altra domanda Quante persone Ci sono Adesso Sul ponte Sul ponte Ci saranno Tu Dalla tua postazione Riesci a vedere Una decina di persone Troppe Quanto è illuminata La mia zona? La tua zona In che senso? Dove sono io Quanto è illuminata La zona? Dove sei tu Quanto è illuminata Essendo sotto il ponte Ed essendo Comunque Sera Diciamo che Sei abbastanza All'ombra Però Ti basta Allontanare Basta allontanarti Dal ponte Per Per Comunque Avere Della luce La luce Dei lampioni La luce Della città Faccio così Mi metto In una zona Più in ombra Possibile E mi rannicchio Adottare da essere Meno possibile Visibile E come è Sono pur sempre Un anziano Che gira Mi prenderanno per Passo Non lo sono Ma mi prenderanno per Un anziano Messo male con la testa Quindi è meglio Che mi metto un po' Rannicchiato Ok Quindi rimani dove sei Rimango dove sono Non è Il momento giusto Per uscire Arwan Tu arrivi al ponte E Individui immediatamente Calypso E anche lei Affacciata Sento Sento la mia voce Da parte di Qualche microfono Di qualcuno di voi Non riesco a capire Chi ma Ok No No Prova 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 No Ok va bene Prova di nuovo No no Non ho il volume Della live L'ho Spento Comunque Tornando a noi Arwan Tu arrivi al ponte E Vedi proprio Che Se tu sei Sulla sponda Sud E davanti a te C'è Il ponte E la sponda Nord Dall'altra parte Tutto il marciapiede Alla tua sinistra È vuoto E il marciapiede A destra È pieno Di persone Che si sono Affacciate Per guardare Sotto Allora su quello Allora su quello A sinistra Dato che ho individuato Calypso Come mi hai detto Ed sono al telefono Con lei Vieni dall'altra parte Siamo a parlare Mentre andiamo A Ripescare Caino E il lucertolone Mi giro Se Se lo individuo Vado Nella nostra direzione Caino È andato A inseguire Il tizio E In quella direzione Gli dico La Zona della torretta Come non Se l'è mangiato Umbris A quanto pare No Meno male Qualunque cosa succeda Mi serve la sua felpa Solo quello gli importa Non che È una valida No Non gli importa Che vuoi Non la faccia Facculo tutto Il caso La sicurezza Degli altri La felpa Tutti sono La felpa Tutti sono gli altri Le potrebbe Comprare cinque Ma la sicurezza Passa in secondo piano Proprio semplicemente Il fatto che È l'unica pista Che avevo E c'è proprio Calizzo che fa così Con la mano Tipo L'ho reso riconoscibile Quello sì È vero Ah sì Comunque Sulla felpa È Incantata Può nascondere Il viso Di chiunque A quanto sembra Occultamento Non so se fa solo Quello può fare Qualcos'altro Sì Però Temo che Sia combattuto Contro Umbris Quella felpa Non sia più tanto Integra Può essere Può essere Al massimo Gli sparo Un proiettile in testa Lo risolviamo così Ma andiamo avanti Ehm Umbris invece Dovrebbe essere ancora Giù Ma non l'ho visto Beh Con tutti quelli che Con tutti quelli che guardano Meglio non andare Beh oddio Potremmo sempre passare Dall'altra parte Mentre gli altri Sono impegnati A guardare E recuperare Sì È una buona idea Beh Sì Possiamo andare O meglio Potreste andare Perché io Sai Sarebbe stare A vedere un cavallo In un fiume A Londra Credo Che senso Posso andare io Cioè io non mi butto giù Al massimo Scendo le scale Vado sulle rime Vedo se c'è A piedi Arwan fammi un Letteralmente Fammi un percezione Arwan fammi un percezione Quanto hai fatto? Cinque Ok Andate avanti Andate avanti Intanto io mi giro verso Volevo già girarmi verso La ragazza Per vedere se aveva finito E dove era andata Con il mio telefono Quale ragazza? Ti ha potuto il telefono Un attimo Calypso Prendo l'altro telefono Attivo il rintracciamento GPS sul mio altro E a pochi metri da te Sai quanto il telefone ha? Sì Io ti ricordo che ne ho comprati sei Uno è diventato una cimice Due ce li ho io E uno Uno ce l'ho io 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 Uno ce l'acalipso Si sta allontanando Oppure È fermo Oh no Certo il telefono a terra Eh vado Vado al telefono E provo ad andare a prenderlo Tu ti avvicini al telefono Il telefono lo trovi appoggiato sopra la ringhiera Proprio quando inizia il parapetto del ponte È lì posizionato È perfettamente integro Prendo il telefono lo metto in tasca Vabbè sti cazzi Non è un problema mio adesso Me di meno Non è più un problema mio Bene andiamo Ok Da che parte? Beh se vuoi andare a recuperare Umbris Verso di là E l'indico dove si scende Per andare sul Che comunque io da 5 anni Che vengo a Londra Un po' l'avrò imparata Sì? Andiamo No Tu vai Io vado a recuperare Caino Che meglio Non rimanere da soli Ok Invece l'altro piccoletto Dov'è? L'altro piccoletto E lì sorrido Stacqui Pam pam E non si muove E quando tu fai per uscire Proprio Ti tiro giù Eh sì vabbè Cazzanata Il nuovo gioco del momento Acchiappa Cristino Acchiappa Cristino Dai gioca insieme a noi Oh mio Dio Oh mio Dio Perché potete vedere in mente Ricorre dall'infanzia Noi quando giochiamo Abbiamo un quoziente intellettivo Complessivo Che non superare la doppia cifra Però va bene Ma io vi amo comunque Ma io voglio ancora tirare Il mio tiro percezione Per vedere se troviamo Quale traccia della ragazza L'unica che se ne frega È vero Allora Se vuoi Puoi farvi un tiro percezione Vabbè Te ne faccio uno Anch'io che stavo Te ne faccio uno Anch'io giusto Per scaramanzia No Adesso è stato tutto No No tu l'hai fallito Quando te l'ho fatto fare Non puoi Questo Sì ma io non stavo Cercando la ragazza Io stavo cercando Il mio telefono Il tuo telefono Ma il tuo telefono L'hai trovato Il tuo telefono L'hai trovato Grazie a GPS Adesso c'è con la ragazza Adesso c'è con la ragazza Ma non posso Io Non puoi Non posso Vi darei una mano Allora Crispina deve farmi Un tiro stratosferico Quindi ha fatto 4 L'ha già fatto Ha fatto 4 Ma riprovo Guarda Ma sì Massimo 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 Ma che schifo Era meglio Era meglio Era meglio Esatto Niente Non so Non viene diretti C'è la fila Buon successo Ma non è sufficiente Per uscire E come Quello che ti sta dando Le botte in testa È un po' Esatto Io intanto Vado verso La torretta Dove mi hanno detto Che è andato Caino Nella direzione Poi la torretta Non si sa Io vado nella direzione Poi se troverò Caino Troverò la torretta Troverò uno Shoggoth Non lo so Fermi Quindi Calypso Tu cosa fai? Rimani lì ad aspettare Di poter andare A recuperare Umbris In realtà Con tutta tranquillità Mi allontano dalla folla E Sai Sono tutti rivolti Verso una sponda Io passo dall'altra parte Banalmente Siccome sono tutti girati Se ne faranno poco Di qualcuno Che è dall'altra parte Che va sotto Spero Sì Ottiva intuizione Scendi tranquillamente Sei Praticamente Accanto al ponte Da una parte Mentre Umbris È dall'altra Però tra di voi C'è il ponte Però riesci A notare Che Proprio Sotto Il La prima Arcata Del ponte C'è comunque Una striscia Di terra Che Ti permetterebbe Di andare Verso Il nostro Lord E Vado Tranquillamente Lo fai Non c'è problema Lo trovi Lì Rannicchiato Per terra In un angolo Muglio Gli tocca La spalla Umbris Tutto bene? Mi prendo Fortissimo La mano Gliela Stringo E poi È la mano Armata Quindi Metà Non le fa niente È un cavallo Calypso Pensa solo È proprio vero Che la stretta Di anziani È più forte Allora Senti Senti Oddio L'hai appena Preso Quei Cosi Sani A 13 Robustezza Non le fa Un cazzo Poco Mico Aspetta È la sua Ambientazione Nei danni Di decidere Ci sono dei piccoli Particolari Ci sono dei piccoli Particolari Di più Non sapete Niente Voi Quindi Non so Se mi sento Io so Solo Che Umbris In questo momento Nella sua Testa Ha La frase Di leto Ma non Mi si può Sveglia Così Io C'ho Una Certe Età Che Poi Muoio Anche Anche Cavalli Fa male Pensavo solamente Fate Folletti Non Satiri Cavalli Tutti Fatati Tutti Tramissi Remidi Ai che dolore Allora Ecco Questo mi mancava Infatti Mi stavo sempre Chiedendo Come fa a metterseli Però O meglio Non so Chi dovrei Farlo fare Tu cosa fai Non appena Ti fai prendere Il braccio Appena vedo Con cosa Sta prendendo Il braccio Io faccio E no 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 Quanto Quanto Va bene Allora Fammi un tiro Di combattimento Ultis Perché Ok Se Cazzo E questo Lo sprovvisto Dove che posso Farci molto Però C'hai un Però Visto che Non ha avuto Il tempo Di reagire Non ha fatto Brava Tiri Di agilità O eccetera C'hai un Più Ok Porca puttaro Scusa E fu così Che cari Successo Quanto è la tua parata Quanto è la tua parata 5 più 2 La mia parata E Qua Aspetta Dovrebbe essere 6 Più 2 7 Quindi Sei andato oltre la parata Umbri E' andata bene La scena è questa Tampissimo Anna Scusate Ah quindi Passano la robustezza Catroia La scena è questa Tu ti avvicini A Umbris Sei preoccupata Effettivamente Per lui Lo vedi rannicchiato Nell'ombra Tutti Si preoccuperebbero Per vedere Qualcuno Che conoscono In quella situazione E appena ti afferra Un minimo di conversazioni Quindi E appena ti afferra E appena ti afferra E appena ti afferra Tu Senti il polso Sfrigolare Come se Come quando Avete presente L'olio Quando La padella Tu ci butti Sopra dell'acqua Quando è bollente La padella Tu senti Quel rumore E una leggera Sensazione Di calore Attorno al tuo polso Immediatamente La mano Che è O se non riesco A fogliare Tiro un pugno In faccia Umbris Per farlo ripigliare Un attimo Che ti devo dire No 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 Anna Sei noto Un calcio In faccia Umbris Eh non è cavallo Aspetta Sono umano In questo momento Non sono un cavallo Quindi il pugno È più appropriato Lo so Era una battuta Tu fai sgusciare Via la mano Te lo faccio fare Che non sei immobilizzata Non ti hai immobilizzato E Vedi che Attorno al tuo polso Sei andata a creare Una leggera Impronta Rossa Con la forma Dei guanti D'armi Di Umbris Ma in mente Mi sono trattenuta Tantissimo Per non cacciare Un urlo Però Non ti ha fatto male È un ustione Che non Cioè Addirittura Non è nemmeno Un ustione Ti ha bruciacchiato Però non ti ha fatto male Non sei nemmeno ferita Probabilmente È qualcosa Che mi è già successo A casa Toccando Provando a toccare Cose Che te sai Cosa tocchi Cosa tocchi Sai com'è Sai com'è Sanni Te sai il mio background Se nessuno mi dice niente Io tocco Ok Io questo Ci riprovo Umbris Però stanno lontana Non tocco Posso avvenzarmi questo voto Giovane Mi è stato pochino una merda Per averlo fatto adesso Non lo farò più Però possiamo andarcene di qui Ti senti abbastanza bene Credo Nel dubbio Vorrei anche vedere Vorrei anche vedere C'è qualcuno che Avrei voluto tranquillamente mangiare Ma mi è sfuggito Beh intanto a proposito Possiamo andare a cercare quel qualcuno Che è scappato in Quella direzione In questo momento Calizzo non lo vede Però sto sbavando L'oscurità aiuta È lì così No Sono più signorile Quindi sono qui che mi copro la bocca Con la mano Direi solo di tornare in forma umana Se non l'hai già Sì sì È già in forma umana Ok Sono che i guanti d'armi Sono dei guanti Buonissimi Ecco Passiamo da sopra però Va bene Sì vorrei anche vedere Con tutte le persone Che ci sono sopra Beh Se passi dal dietro Le persone che sono davanti Non ti vedono Secondo te Come ho fatto a scendere Guarda Giovanni Solo perché in questo momento Ti ho bruciato per sbaglio Oppure Possiamo provare ad andare In acqua Se ti senti più a tuo agio Cioè io non ho problemi Ad andare in acqua Non è il momento migliore Per entrare in acqua Soprattutto se Quella persona è ancora Di sotto Io non lo so Se è uscita o meno Questa persona Quindi Neanche Calypso lo sa in realtà Beh io l'ho visto Il coro L'ha visto uscire L'ha visto L'ha letteralmente visto uscire Lei l'ha visto Ok è vero L'ha visto uscire Scusate L'Apsus Beh no In realtà Se ne è andato È corso da quella parte Quindi Teoricamente Se andiamo abbastanza sotto Quelli sopra Non ci vedono Tu respiri sotto Mi casto Protezione ambientale Sì Ora sì Fammi il tiro Di attivazione Fammi il tiro Di attivazione E lanciare incantesi Allora Lui Lanciare incantesimi Sì È questo Ce la fai Non può fare Ce la fai Vabbè in realtà Arwan si trasforma in un pesce Ce la fa Spirare sott'acqua Senza problemi E tra l'altro E tra l'altro Quando sono Quando sono Nell'ambiente In cui mi trasformo Cioè Per cui mi trasformo Riduco anche i danni C'è scritto nella descrizione Beh Ora posso Prego Quanto lontano Ragazzino Ah sì Prima che me lo scordi Ricordati Capelli rosa E pelle maculare Ok Mulanda Ora me lo sta dicendo a tutti Vabbè sì E forse per me Che cosa me le scordo Ah chiaramente La protezione ambientale Vale anche sul cellulare Prima che Sandy Faccia cose Da master cattivo Ma è un 3310 L'acqua non gli fa un cazzo È indistruttibile Quei cosa Non si sa mai Non puoi usare come grigio L'hai preso 3310 Certo Cioè lo puoi utilizzare come armatura Pele collate di cemento E funziona da dio proprio Puoi usare anche L'arma impropria Volendo Non hai Un milan Danni Con il poso Fa un D-100 di danni No no Fa un D-100 di danni D-100 di danni Abbiamo trovato la copertina Della campagna Della stessione In nota il 3310 Ma andiamo avanti Ma andiamo avanti Il telefono Basta Basta Ma andiamo avanti Arriviamo alla torre Umbris si butta Calypso si butta Aspetto E la prendo in un punto Dove Non la brucio E poi mettercelo dietro Perché tanto so che è lenta I capelli I capelli I capelli E bacchia la pina Vabbè Però possiamo Possiamo dire che Calypso ha cavalcato Umbris È vero Oh no Ed è la seconda persona Che cavalca In questa campagna Ma andiamo avanti Bene Andate Rimergete dalle acque E risalite Sull'altro ponte Quello Più ad est E più distante Ma comunque più vicino Al Tower of London Dove 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 Appollaiato Su un lampione C'è Caino Che vi vede subito Arrivano prima loro Non arriviamo insieme Io E' molto veloce E ma noi siamo partiti Prima Prima che Calypso scendesse Noi stavamo già andando Parami Tiro un grado Decidi questa cosa Sopra sotto Sopra sotto E chi deve decidere Oh Mauro Decido io Che cavaliera sceglie Ok Chi Sopra e chi sotto Che preme Vuoi che state litigando Su sta cosa Io ero Che cavaliera Sceglie Sopra sotto O io o te Dobbiamo scegliere Quindi vai tu Vabbè Sopra Sopra per Mauro Sopra per me Capito 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 Ma Mauro Scusate Sculo ero Cioè volevo dire Arwan Arriva per primo Ed è la prima persona Che vede Arrivare Caino Subito seguito da Umbris e Calypso Che rimergono dalle acque Che risalgono Sul Ponte Il tizio In Il tizio Incappucciato In tutto questo Era appunto Già entrato Ha chiuso la porta dietro Cioè Non ci può vedere In nessun modo Che io sabbia Perfetto Allora Mi scendo Da Lampione Con una discreta calma E mi avvicino Comunque mi metto A metà strada Essenzialmente Tra Arwan E Umbris In modo che si avvicinino Tutti quanti Con molta nonchalance Mi avvicino Senza guardare Mi fatti scollare Dall'acqua Maledizione Bastardi Io non l'ho mai Io mi avvicino Senza guardarti In realtà Però Mi prendo Il telefono E me lo metto All'orecchio Ok Tu ti vivi E ti non sospiro Le sole Quindi hai visto Dove è finito Sì È entrato lì Una torre Caino Si è chiuso La porta chiave Alle spalle Non so se è chiusa Non so se è chiusa Chiave Però sì Caino Vi indica Una torretta In mattoni È una sorta Di cilindro Una struttura Anomala Per come È adesso Londra Va in netto Contrasto Con gli edifici Più moderni Che sono Andati a costruire Attorno Però Direste che Ho sentito di nuovo La mia voce Che urto Direste che È un Rimasuglio Della vecchia Londra Forse è Scusate Vedo Vedo il verde Perché qualche Si illumina Mentre poi Alla sanno Prova 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 Sì Engie Colpevole Arrogo No Mettete la musica del professor Layton Comunque se Un bris Arrogo Non succede niente Perché Acqua Abbiamo Andiamo avanti Sono ancora bagnata Quello che dovevo dire l'ho detto Ok allora io Dato che mi ha detto che è andato di là Mi appoggio al muro vicino alla porta Guardando la strada Come se Stessi appoggiato a fare una chiamata Nel frattempo metto Una mano Dietro la schiena E ho Metà della schiena Dalla parte del muro E metà della porta Coprendo la maniglia Provo a Spingere E tirare la porta Per vedere se è chiusa Chiavo oppure no È aperta Ok perfetto Lascio lì Beh È aperta Io ho guardato verso Calypso e Umbris Eh Io direi Ho preso un braccio di Ma magari no Di Calypso No no Un braccio proprio A mo' di nonno Che prende il bracetto La nipote Di nuovo Beh E ne affolge sul col bastone Più pesantemente Rispetto a prima Io la tavo vorrei chiedere una cosa Al master Ma ci sono per caso finestre O cose Nella struttura O è un blocco unico Messo lì a caso Tutti fermi a guardarlo Quindi È un semplice cilindro Di mattoni Rossastri Con una porta E una scritta In vecchie Lettere di ferro Arrugginite Tutti attorno Alla parte superiore Ok Posso capire se è una sorta di edificio Messo lì con un'illusione O qualcosa del genere Vuoi controllare se È un qualcosa di magico Tecnicamente sì Non so se posso farlo Se vuoi fare che sia qualcosa Controllare se sia qualcosa di magico Devi Fare arcano rivelato Se no è un semplice percezione Mi sa che per ora farò Un semplice percezione Percezione Vai Percezione Non percepisco Non percepisco Percepuzio Lei non percepisce No ho fatto tre Hai fatto tre Non Riesci a capire se è magico O semplicemente qualcosa di umano Messo lì La scritta Tu guardi la scritta? È scritta in inglese Cioè è comprensibile O è runico Sì La scritta Reca La scritta Reca A.D.1868 London Hydraulic Power Company A.D. Scusa 1868 London Hydraulic Power Company Lo conosciamo? Cioè almeno io lo conosco Fammi un conoscenze comuni Vabbè Non ne hai la più pallida idea Non ne hai mai sentito parlare Io non sono di Londra Però magari Per la compagnia Cose del genere Lo so Provo anch'io È un successo Vabbè dai A sto punto È un successo anche a Calypso Non guardate mai Le prime volte che vedo questa città Sono ignorante e cronico Quindi non puro Ma magari Ho uscito anche fuori dal Parli con loro La scritta Non so un cazzo Non vuole sapere niente Amica mia C'è letteralmente scritto London nel nome Dubito che fuori Londra Abbia fatto qualcosa Signor Dipende Il London Regine Ce l'abbiamo anche qua Sì ok Ma io non sono neanche Di Londra Non sono neanche Dell'Europa Vengo dal nuovo continente Quindi Un 3 Un 5 per Arwan Un 5 per Calypso Dunque Zero successi per Crespino E un successo a testa Per Calypso E Arwan Nessun altro fa altri tiri? Ok Non guardare mai È impossibile che sappia qualcosa di questo Fatti Ok Tu Crispino Non ne sai Assolutamente niente Aura e Calypso Invece Possono Intuire Che Sia qualcosa Qualcosa di sotterraneo Non sanno esattamente Che cosa Ma certo È qualcosa di sotterraneo Meno male che ho portato la felpa brutta Tanto aspetto che I passanti Passino E quando c'è un momento libero Alli hop Mi infilo dentro la porta Sì E nel mentre Voglio stare molto attento All'ambiente circostante E mentre entro Furtività Ok Ok Oh C'è che io sono sotto la sua maglia Quindi Ah va bene Dai Tranquillo Se si muove lui vado io Sì sì tranquillissimo Come al solito Ok Ho fatto otto Mastra Furtività Perfetto Ho fatto otto Due successi Tondi tondi Quando Entri Senti Immediatamente Che L'aria Sulla tua pelle Sulla tua faccia È umida È fredda E davanti a te C'è una Scala a chiocciola Di ferro Piuttosto arruginita E con parecchie Con parecchie Ragnatele Ok La scala a chiocciola Va verso l'alto O verso il basso Verso il basso Perfetto Perfetto Oltretutto Attorno a te È molto buio E man mano che guardi Verso il basso Diventa sempre più buio Meno male Con scura visione Tanto gli altri Se vogliono fare qualcosa Nel mentre Dopo che hanno visto Arwan entrare Beh Io Ad una certa Entro Perché Magari Mi trascino Dietro un gris Però Prima voi Quando vedo Che tutti Stanno per entrare Io l'unica cosa Dico Prima voi Queste alite Andrante S'ingombranti E viste le dimensioni Della torre Dubito che ci siano Delle scale Abbastanza larghe Per Permettermi Un movimento agevole Preferisco stare dietro Almeno Faccio da copertura E ho una buona Gettata di tiro Ah mi tocca scendere Non ce l'ho voglia Però va bene Non possiamo mica Lasciarti qua Ho una certa età Giovane Ti serve la sua saggezza Beh ma c'è La tua cena Lì sotto Non è questione di cena O questione di non ne ho voglia Il finale non fa bene L'ho fatto solo perché Non c'ho voglia Andiamo Entriamo tutti Sandy sa per quale motivo Ho detto che non c'ho voglia Mi sembra giusto Ah Comisci con te profonda la scale Noi ci vediamo Per bene Crespino è con te Eh sì Per te Per te Non è così buio Però Anche te Vedi che Andando molto più avanti Nemmeno te Riesci A vedere In quell'oscurità Riesci a capire che Laggiù la luce Non arriva Si è tirato Ok Faccio cose Voleva provare a far Voleva provare a vedere se Faceva una cosa Gli ho chiesto di vedere se Poteva provare a fare una cosa Però Non Non riusciamo Vabbè Niente Tentativi Online E vabbè No ma infatti ho fatto quello E Vè ce l'ho fatta Che direbbi Gli chiedo Allora 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 Io prendo il telefono Te lo abbasso a te Guarda tu Perché io mi sa che Mi è cieco Se lo guardo In questo momento Ma come è possibile Che è cieco Che Siamo completamente Al buio E Io riesco a vedere Più o meno In questo buio Siamo L'umosità 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 E comunque Tipo Lo faccio io Quindi Ok Bene Facendo un teso Il telefono C'è campo C'è campo C'è campo Dove siete voi Per sicurezza E abbiamo tipo La lucina Non lo accendo È un Nokia Ah è vero Perché è un Nokia Di quelli nuovi Ovviamente Lui c'è un cellulare Io c'ho un cellulare Serio E poi ho due Nokia Ah la merda Mi ha detto una merda C'è una torcia Comunque in Nokia La situazione Ah Comunque Tutti e due Riuscite a vedere Grazie comunque Alla vostra Vostra visione Crepuscolare Se vi guardate Se vi guardate attorno Una cosa C'è un pannello Con vari interruttori A pochi passi da voi Io però Vorrei cercare un'altra cosa Perché lo stronzo Sporcava Lo stronzo Ha sporcato La ringhiera È sporco Anche qui Sì Seguiamo la traccia Ci sono Non ho fatto chiare Tracce Non ho sporcato di sangue Ci sono varie tracce luminose Che I tuoi occhi Riescono a vedere Beh signori Io ho una pista E tiro fuori Mettovi il telefono E tiro fuori le pistole Io ho già il fucilino In braccio Da quando siamo entrati Sono queste tracce Il bello è che Dovevo mandarti L'arma alla torcia Però le tracce Sono piedi Ho proprio macchie Sono tracce E continua ad andare Sono tracce Sono tracce Di scarpe E Come Varie goccioline Addirittura Lungo la scaletta Si vedono Queste goccioline Che scendono Le scale Qualche emanata Sulla ringhiera Come se si fosse Appoggiato Per caso C'è qualche emanata Sull'interruttore Me lo deve dire Rigorosamente Non premo niente Rigorosamente La sinistra Perché la destra Non può essere usata Sono tracce Sull'interruttore Una manata Una manata Bella Una manata Bella evidente Della mano Della mano sinistra Ringrazio Ringrazio E grazie a te Mi dopo Beh si Calypso Ci sono delle Entracce Sull'interruttore Mano Destra Sinistra Sinistra Ah una cosa Che non vi ho detto Giusto Anche a voi Voglio quella Fottutissima felpa Uccidetelo In qualsiasi modo Volete Ma quella felpa Mi serve Signori Ecco perché Non voglio Chiamarli eroi Anche se forse Meglio Prenderlo Vivo Per fargli Qualche domanda Ecco appunto Ma Può stare Anche se Sapete Anche senza Senza un braccio Le gambe Volendo La felpa Mi serve Non trattatevi Come bestia Che mangia Che mangia Così Che cosa Tipo la mente No Più che altro Stavo cercando Di convincermi Da solo Ma andiamo Se vuoi Convincerti Ti basta Non ripugnare le pistole Quindi Volete Addentrarvi In questo Antro Ovviamente Sì E ovviamente A darmi spianate L'interruttore Perché Se l'ho usato Vuol dire che serve Ovviamente Sì E a darmi spianate Ok Quindi non fate Niente all'interruttore No Ma Lo guardiamo Come è fatto Questo interruttore Come è fatto Questo interruttore È un coperchio Con questa manata Che Arwan Riesce a vedere Ci sono dei tasti E Calipso È quello Che tocca cose È un coperchio È un coperchio Non lo avevamo capito Tranquilla Deve aprirlo Apre Calipso Apre proprio così Ha detto Quell'interruttore Guarda questo C'è una serie Di interruttori Che Per te Sono normalissimi Per Arwan Invece Questi interruttori Sono tutti quanti Luminosi Qual è quello Che mi sembra Più luminoso Quello che è stato Illuminato Più di recente Sono tutti Illuminati Alla stessa maniera Calipso Ti dirò una cosa Che potrebbe farti Molto felice Non voglio dire Non voglio dirglielo Su tutti Ti prendi in braccio Non me ne frega Niente Tanto la forza È così Mi ustiono E non volo più Perdo la mia utilità Perfetto Bene Cosa fai Calipso Tocco Cosa devo fare Di quello che può Ok Gli interruttori Gli interruttori Sono tutti quanti Abbassati Tu li rialzi E come li rialzi Tutti quanti Senza distinzione Perché immagino Tu faccia A mani A mani piene A mani Aperte Perché la faccia È della felicità Il cilindro Dove siete voi E anche Quello che sta Sotto di voi Oltre le scale Si illumina A giorno Non ci serve Le spengo qualcuno Per magari abbassare La luminosità Bene Possiamo andare Una domanda Voi siete entrati In questo cilindretto Oppure siete Siete tutti quanti In questo cilindretto Non ci state In questo cilindretto Io devo stare Io devo stare fuori Per forza Ci sono gli interruttori Per controllarli No gli interruttori Sono dentro Allora devo stare Allora fammi In quanti ci stanno Nel cilindretto Appunto Non c'è detto Questa cosa qua Perché noi Massimo due persone Massimo due persone Ok Io sono fuori E allora non ci stiamo Siamo in tre Ce ne sono calipso Aspetta Caspino non conta Come una persona Scusami Dentro ci sono solamente Caino Caino scusa Ci sono solamente Arwan E Calipso Io e Caino Siamo fuori E Crespino Perché Crespino È nella torta Crespino non vale È troppo piccolo Aspetta Siamo fuori Ma una domanda Per voi Voi due Fuori o dentro Siete con la porta aperta Immagino Perché visto che avete La rete la so chiudo Sono l'ultimo Sì no no Allora aspetta Caino Noi te siamo fuori Io la so chiudo E inizio a sparare La mega cazzolata Della filosofia Che ha fatto anche Ma anche a No 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 Ah no aspetta Aspetta Allora vediamo Non ho capito Quindi non è Tipo c'è sta il cilindro Che è la torre Con gli interruttori Esatto Non c'è una scalinata Comunque Ah ok No non ci stiamo Fisicamente Qui siamo fuori Ok ok ho capito Avevo capito Parlasse del cilindro Della scala chiocciola Proprio Ecco ho capito Fischi per fiaschi Come al solito Eh che l'ha spiegato Adesso Sanni Avevo visto che non l'ha spiegato Aspetta tu cosa sei Adesso Caino Penso che sia un uccello Se rimane fuori Ah io Sì io sono semplicemente Un uccello Sono un piccione Ok quindi non devo fare La supercazzola Filosofica E niente Mi metto lì Mi appoggio Sono un piccione No che poi mi freddo per passi I piccioni Povero piccione Allora sono lì Che so Io adesso sono lì Che sto osservando Che sto recitando una parte In questo momento Sto osservando Con molto curiosità Il piccione Che sta girando intorno a me Ah Caino E sono lì Che mi appoggio Un po' stancamente Sul bastone Faccio un po' di scena Ok E ho detto Bene Come Era solamente per chiarire Com'è che Mi comportavate Al di fuori Del cilindro Ah ok Procedete pure Quindi si accendono Solo le luci E cosa vediamo Si accendono le luci Ora ve lo vedete bene Poi vedete Che c'è un fondo Oltre la scalinata Entra Vedete Che c'è Che Continua ovviamente Non riuscite a vedere Cosa c'è Precisamente Sotto di voi Però vedete Che non è Tanto profondo Saranno Circa Una decina Di metri Riuscite a vederlo Con tutte quelle luci Le tracce Vanno avanti Le tracce Vanno avanti Cospino Tu che sei piccolo E abbastanza poco identificabile Vai avanti a vedere Se ci aspetta Puoi sacrificare Lo sapevo Che dove volevi andare Esattamente Ti tiro fuori Ti metto giù Dei farti tornare Per esserti fatto vedere Da tutti Ma con che cattiveria Vabbò Cattuita Qui ce l'hai Qui Qui Proprio qua ce l'hai Il fatto che si può scoprire Mamma mia Se mi succede qualcosa Voi lo dice a mamma Tu Le mie storate Te le prendi Ok Va bene Sto rimando Guardo un attimino Faccio un percezione Prima Magari vedo Un po' 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 Sto scherzando Non voglio schiattare Vai Vai di acrobazia Vai di acrobazia Sto scherzando Sto scherzando No Non ce l'hai detto Lo fai Lo fai Lo fai Va benissimo così Questo è esattamente Come noi Ti avrebbe giocare Una campagna su Twitch Tiro a tre Ma noi ce ne infischiamo Io stavo scherzando Facciamo che Arwan Ti dà una spintarella Tu perdi l'equilibrio Perché comunque Le scale sono bagnate Tu scivoli Il coso Ruccioli per un attimo Però ricadi perfettamente In piedi Qualche scalino dopo Senza esserti fatto un graffio Ma dentro E Mauero 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 Ma è No copri Vorrei smuggolare Ma non lo farò Perché Mi cago Guardo per me Né sotto Com'è la situazione Si sente rumori Fammi un percezione Dov'è Per gestione Come succede E mi sa Che a questo punto Direi che Arwan E Crespino Monopolizzano di nuovo La thumbnail Oh no Secondo me Secondo me Non sarà il Nokia O sarà Caino piccione Bene Hai fatto Un set Dunque Tu sei Abbastanza sicuro Che non ci sia Nessun rumore umano Ci sono Rumori Di macchinari Qualche goccettina d'acqua Tendi l'orecchio Ma non ci sono Rumori umani Né passi Né passi Né voci Nulla Cosa vedo Cioè Ora Le luci ci sono Anche sotto Le luci ci sono Tu vai avanti Per vedere Devi scendere sempre Più di più giù Fondo Voglierei guardare Cosa c'è Prima di arrivare Proprio in fondo Quindi vuoi farmi Un furtività Sì Voglio stare Se vuoi Vuoi essere furtiva Oppure vuoi andare Di transolla No 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 Voglio andare Di furtività Mi cago In questo momento Non sono mai stata Questi posti Quindi Viverissimo Rigorosamente così No Sei un'ombra Nella luce Sei un'ombra Nella luce Nella luce Quindi è visibilissimo Quindi è visibilissimo No merda No Sgattaio lì Come un fottuto Scogliattolo Sulle scale Scendi 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 Sei velocissimo Ti fermi Appena riesci a capire Che Riesci a vedere Il fondo E anche quello Che c'è E semplicemente Tu vedi La tromba Delle scale Che continua E a un certo punto E come C'è Un soffitto Sempre A cupola Tipo Una volta Che Continua avanti E continua Ad oltranza Hai davanti a te Un tunnel Niente Dentro Alla stanza È vuota Nient'altro Una panchina E c'è questo Corridoio infinito Non vedo È un corridoio Illuminato Con una linea di luci Al centro Dei tubi E qualche filo Di quelli Di quei fili Tipo Della luce Qualcosa Di cablato Comunque Probabilmente È chiamata Canalina Con Dentro I fili C'è l'hai il telefono Grande Quanto Ma io non te l'ho dato Il telefono Non me l'hai lasciato Cattive Ma Si proprio Cioè Tu ti aspettavi Che Crispino Girasse l'angolo E poi si sentiva Il rumore di mitraglietta Certo L'hai mandato a morire Proprio C Crispino Tu comunque Vedi Che Dal tuo punto di vista È via libera Perché La luce Il fatto che È una Un tunnel Continuo Ti fa capire Che non c'è Nessuno Nessuno Almeno Fin dove arriva Il tuo sguardo Ma infatti Io che sono Io sono già Dietro C Crispino Non ho neanche aspettato Che mi dici Che c'è Qualcosa Non so Ti vado malissimo Che c'è Tu 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 Io Se vuoi vado Prima io Stavolta Ho capito Perché hai detto Prima che sei Stronzo Ammetto Le mie colpe Non puoi dire Che non ti avevo avvertito E poi vado avanti Infatti Quei scherzi Fai Appena abbiamo Secondo Libre McGyver Arwan va avanti Voi altri Cosa fate? Ah intanto Tra parentesi Vedo delle tracce Nella stanza Nella stanza Li vedi Chiaramente Sono sempre Le stesse Impronte Di scarpe Che però Mano mano Che vanno avanti Spariscono Tu Sei Certo Che si Son Che Chiunque abbia lasciato Quelle tracce È andato Lungo Questo Lungo Tutte Che spino No No Sicuro Vuoi fare Quello Che volevo fare Io Io volevo dirti Di fare una cosa Io ne facevo Un'altra Vuoi fare La mia E poi Mi diramo Questa volta Non mi lanci Dimmi tu Vuoi fare Quello che volevo fare Vuoi fare Quello che vuoi fare Stai dicendo Stai dicendo Cosa Vuoi fare Qual è il tuo piano Capo Il mio piano Era Io vado avanti A controllare Tu vieni su A chiamare gli altri Vuoi fare Quello che volevo fare Io Vado via E' stato mio mio Intanto Io vado Vado un pochino Più avanti Per Cercare di scuaggere Il nostro Fuggitivo Provando Provando a fare Il più Provando ad essere Il più silenzioso Possibile Tu vai avanti Vai avanti Vai avanti Non ti curi Ovviamente Degli altri Che sei sicuro Che arriveranno A breve E davanti a te Non vedi Assolutamente Nessuno Le tracce Diventano sempre Più sbiadite E a un certo punto Ti ritrovi In mezzo a questo Lungo tunnel Con soltanto Un davanti E un dietro Da dove sei arrivato tu E dove si va Vedo le tracce dietro di me Sì Le scorgi Ormai sono sparite Dove sei tu Allora Aspetto un attimo Lì Aspetti Non l'accada No no Aspetto che Rimino gli altri Con un po' di calma Visti gli spazi ridotti Una volta Se non ci si passa Scenete giù No vabbè No vabbè Ci aspetta Piano piano Scendiamo tutti Credo Sì Scendete tutti Io prima di scendere Do una controllata La porta è ancora So chiusa Sì Ci sono io Davanti all'entrata Che faccio entrare Un piccione dentro Io comunque Se li vedo arrivare All'inizio del corridoio Li faccio segno Di correre E poi Non credo Il corridoio Ah io non entro Ah ok Tu non entri In questo obiettivo Non entro No in questo obiettivo Non entro Voglio vedere Quante persone Ci sono in giro Ho un'impercezione Qui 11 11 11 E lo sculo Si alza E lo sculo Si impenna Signori È il primo tiro mio Sì Esatto Sono ovviamente Due successi Sono due successi Ma sono due Degnissimi successi Perché tu Umbris Guardi Londra Londra Che ormai Si sta Piano piano Addormentato Vedi Qualche umano Passare Osservi Il cielo Come farebbe Un normalissimo Anziano Umano E il tuo sguardo Cade Sulla Tower of London E ti rendi conto Che Poco distante Da te Una marea Di corvi Si sta Osservando Ok Non entro Rimango lì C'è un corvo Che ti si avvicina Chiudo la porta Dietro Dietro di te Oppure Rimani lì No io rimango fuori Chiudo la porta Prima l'avevo tenuta Su chiusa Per far entrare Caino Caino Sei entrato a proposito Sì Ok Chiudo la porta Dietro Caino Il corvo davanti a te Si arruffa E di nuovo Fa un altro verso Stavolta più insistente Ah Questi uccelli Di oggi Questo è il mio Contento L'uccello Ti guarda Arruffa di nuovo Le penne Scrolla la coda Si gira E Vola via E si ricongiunge Agli altri E Poco alla volta Dopo che Il loro compagno È arrivato Si disperdono E sei Ufficialmente Di nuovo Non osservato Ok Quindi Nessuno mi osserva Io non osservo nessuno Io non vedo nessuno Appena Vedo un momento Completamente Libero Che non Proprio Non c'è Nessuno Mi filo dentro Mi infili dentro Ok Scendi le scale E il tuo naso Percepisce un odore familiare O quello di prima O quello di prima Il titolo di prima Parli No È un odore diverso È l'odore Del fiume Del fiume Siamo della pogna Senti questo odore E lo senti Sempre più Insistente Man mano che Ogni volta che Arrivi In fondo E man mano Che vai E ti ricongiungi Agli altri Nel mezzo Di questo tunnel Luminoso Giovani Abbiamo una Pesta Che cosa intendi Quel Mio prossimo Bocconcino Si è buttato Nel fiume No E sapete Che odore fa No Lo sto sentendo Beh È come La compagnia idrica Come era indicato Esatto No 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 Non in quel senso Non in quel senso Sono cose che Non riuscite a capire Non siete in metà Vestie marine Beh Ha senso Le tracce sono finite qua Quindi possiamo seguire Il tuo naso Per adesso È l'unica L'unica altra via Che ci rimane Quindi sì Sanni Attivo il mio radar Chiamato naso E continuo a cercare Percezione Io attivo il mio fucile Vai di percepuzio Percepuzio Vai 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 E intanto Dopo questo percepuzio Io Sanni Ti ricordo Che sono Le 11 meno 20 Oh Sono le 11 meno 20 Signori Con questo tiro Che lasciamo in sospeso Che è un successo Io chiamo la pausa Io chiamo la pausa Quindi ci rivediamo qui tra 10-5 minuti Come volete Quando riusciamo Cerchiamo in 5 Forse 10 E Niente Siete liberi Di fare la pausetta Se volete Se no Ditemi Fate Si possono togliere Le webcam Adesso Si possono togliere Le webcam Un momento Anche se si Poi al massimo tagli No Toco su Dalla giacca Ok Si possono togliere E' un po' E' un po' Chi sono diventato No Sono una voce Senza corpo Bene signori Nel frattempo che Sono la tua coscienza Nel frattempo che Siamo in pausa Chat Come state percependo Percepuzzi a questa live Questa Rolata Rolata Aspetta 10 minuti buoni Che Cambio anche la musica Metti la musica D'ascensore Molto divertenti Dai su Devo Devo usare i ferri I ferri? Finalmente Posso usare i ferri Ah guarda Io non ne sono così contento Finchè non darò un nome A quel fucile Ah ciao Vendi Ti sei perso Che Siamo andati in pausa Un momento Anche tu Ah quindi anche lui Ha fatto una pausa A bit cheap Bravo bravo Ah Mi scicca vuota Ho detto così Devo In diretta live Signori In diretta In diretta Eh Sono stato incontinenza Sono sempre anziano Ok si Ho il nome delle pistole Perfetto Questa sono Disperazione Urla? No Non siamo così Mainstream In cadana Ah Allora pestilenza e carestia No I due cavallini Da morte Che non No Morte Nè guerra Morte In guerra I cavallini Appunto Sono i due cavallini E' vero Stanni Aspettano ce l'ho Ce l'ho E' vero Il piuma Ma li ha presi Ci sta Io parlavo dei tuoi Dei tuoi pochini peluche Cosa? Non ti ricordi i tuoi pochini peluche Che hai chiamato Guerra Ah le apocalipsil Le foche Le foche Della foca lisse C'è qualcuno Che se le ricorda Che bello Certo Erano bellissime Stanni E' da più di E' da quasi due anni Che ti seguo Quindi lo so Benissimo Io ricordo Ora La waifu Peperoncino Anch'io Ah La waifu Peperoncino Certo Possiamo dire Noi c'eravamo Noi c'eravamo Voi c'eravate Signori Voi c'eravate Io no Per fortuna E' da tempi migliori Quelli Cosa? Cosa? C'è puro Cosa? Bene Quindi Siamo in Siamo fuori pausa Avete fatto tutto Quello che volevate Sì Ah isbettamente Fate tutte 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 Avete fatto una Ora posso continuare Per un'altra oretta Allora Io devo dire Però che approvo L'idea di Briggs Che dice Di mettere Sunny Maid Come intermezzo Per la pausa No No Io ti muto Ti muto l'esistenza Porca puttana Io vi uccido Io vi uccido Allora Io vi uccido No E allora Non la avete nemmeno Nei menù di pausa Però ci sono dei conflitti Di interessi per me Non puoi mutare Allora Allora Cosa? Cosa non ci hai detto Anna? È come se io mutassi È come se io mutassi Le orange Oh puoi farlo Tranquilla Allora Ma andiamo avanti Signori Ok Siamo di nuovo live Siamo di nuovo online Ok Calma Prima di tutto Calma Oh Salute Salute Ti saluta Comunque Grazie Grazie Ricky Per avermi fatto salutare Da Ellie Fa fare tanti grazie Mi rispondi Ricchia da parte mia Mi dissocio Dalle dichiarazioni Di paccia Oh Brissi Si dissociano Oh Andiamo avanti Lasciamo Ma andiamo avanti Lasciamo certi argomenti Fuori Alla live Due raccordi sentimentali Fuori Esatto Bene E soprattutto Le gambe Che prenderebbe Dopo la live Umbris Tu sei un sireni Dopo E questo No Tu sei un sireni Non ci piove E questo non ci piove E poi ci stagga Perché E' acqua Stiamo piovendo Sul bagnare Per te Percepire Il mare Gli specchi D'acqua E' facile Come respirare Ma qui non si tratta Di individuare Una persona Che è stata In acqua O almeno Tu pensi Di star Cercando Una persona Che è stata In acqua Ma tu Non trovi Non percepisci Qualcosa del genere Intorno a te Però percepisci La presenza Del fiume Allora io faccio Questo ragionamento Mentre continuo Ad andare avanti Che Al cento per cento Siamo nelle fogne E le fogne Se non è Poi È stato diverso Da dove abito Buttano direttamente Sul mare O sul fiume In questo caso Quindi I casi Sono due O sto veramente Sentendo il suo odore Di Puzza Di Di Tamigi Oppure Sto andando Nella parte Sbagliata E sto andando Verso il fiume O Lui è andato Si è riputato Reflor Io uso l'opzione Numero tre E dato che La verità Faccio una decina di metri Poi mi fermo E sopra che sto ragionando Questa cosa Mentre lui ragiona Vole usare l'opzione Numero tre Ovvero Dato che siamo fermi Dato che Il pavimento Comunque È in metallo Oppure in pietra O Sì Il metallo Sarebbe un problema Per noi Per i nostri piedi È in cemento Armato Ok Fa niente Tanto si sente comunque Il rumore di passi Più o meno Perché Siamo tutti fermi Ci siamo noi E gli altri Dall'altra parte Sicuramente È sto posto fonico Della madonna Esatto Io sto Allungando Nero Questo momento Io vorrei provare Ad allungare l'orecchio Sentire se Scurgo Sento dei passi Vai Vuoi fare anche tu Un percepuzio Percepuzio Facciamo che siamo in due Perché lo faccio anche io Facciamo che io Ti tiro un Benny Facciamo che io ti tiro un Benny Tutti che tirano Benny Tutti Dobbiamo farlo tutti Per sezione Sì? Se volete capire Facciamo che te ne uso un altro Perché sono Sono un infame Oh ecco Ok Meglio 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 Ora vado Io Vai Ok Ok Percepisco Per una volta Ho visto Signori Caino Caino Si vuoi sentire Si Elenchiamo Wow I tiri Che sono stati fatti Arwan Quanto hai fatto? Tre successi Signori Quanto ha fatto Calypso? 8 E quanto ha fatto Loki? 14 Sfocatissimo Ma niente 14 Quindi in tutto Sono Tre successi Per Caino Due successi Per Calypso E un successo Per Arwan Partiamo da Arwan Non senti Assolutamente Alcun Rumore Di passi Ne sei certo? Se c'è Una cosa di cui Puoi essere certo In questo momento È che Non c'è nessun altro Con voi In questo tunnel Calypso Allora Allora Faccio una cosa più logica Prima faccio una cosa più logica Del mondo Aspetto 5 minuti Fammi prima Fammi prima elencare Fammi prima elencare Quello che Sono i risultati Dei tiri Che potevo correre Calypso Tu Oltre a tutto questo Oltre alla sensazione Di essere Gli uniche Gli uniche persone All'interno di questo tunnel Cominci a percepire Un'altra cosa Un sottile Un sottile Rumore di acqua Sopra le vostre teste O no? Nel dubbio Mi casto protezione ambientale Perché non si sa mai Di nuovo Caino Tu hai fatto tre successi E oltre a tutte le cose E oltre a tutte le cose Prima elencate Le tue piume Una sensazione Che Una sensazione Che ti solletica La nuca Le piume La base della nuca Ti fa capire una cosa Non siete Semplicemente Sotto terra Voi siete Sotto il Tamigi Non sembra esserci nessuno Lo dico comunque Ha una voce piuttosto bassa Per sicurezza Per non far riecheggiare Troppo l'Eco E Non so se l'avete notato Ma Siamo sotto il Tamigi Però che cosa è arrivata Per me non è un grosso problema Per me si Beh magari Chi sa respirare sott'acqua Può andare avanti Beh oddio In realtà In realtà Posso castare protezione ambientale Su tutti Quindi Ah quella cosa strada Che hai fatto per Notare insieme a me Ah Sì Esatto Nel dubbio Posso metterla anche sugli altri In teoria Correggimi se sbaglio Sanni Puoi farlo Se vuoi Ovvio Nica vi voglio lasciar morire Poverini Spiegati meglio Beh Pensate a dove siete C'è un tunnel Ben illuminato Sotto il Tamigi Sotto il Tamigi Vi aspettate di essere Presi dall'acqua Non so se te ne sei Ricordata Ma abbiamo un certo Dinamitardo Dentro la felpa Di Aaron Quindi basta un esclusivo Messo male Il tunnel non esiste più Il tunnel non esiste più Esatto Esatto Io comunque spiego Più o meno a Caino Come funziona È una cosa Credo che possiamo fare Noi centauri Credo E altre creature fatate Non ne ho idea Sì potrei farlo Anch'io Se solo Beh sì Alcune magie Si possono imparare Comunque Non è una di quelle Che Avevo voglia Di imparare Questa Dimitiamola così In ogni caso Almeno abbiamo fatto Un passo avanti Una ricerca Anche solo adesso Sono piuttosto sicuro Che questo sia Il passaggio Che utilizzano I cacciatori Per spostarsi Attraverso Londra Senza farsi notare Può essere Passaggi sotterranei Che A quanto sembra Visto che nemmeno Il Tamigi Riesce a Passa comunque Anche sotto il Tamigi Dubito che abbia Problema a passare Ovunque Per Londra Quindi Ci basterà Trovare un'uscita E avremo la conferma Ci sono segnalazioni Qualcun Che c'è C'è proprio nulla Sulle pareti Oddio Santa Aspettendo 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 E appunto Voglio iniziare a Proprio a usare Tutto quanto Le pareti Per terra Dappertutto Vuoi sentire Quel fottutissimo Odore È diventato Sì Per entrare Per entrare Nell'acqua E sentire Meglio Lo trover Potrei anche farlo Potrei anche farlo Ho l'ho fatto Per farlo Sono vecchio Ma ho l'ho fatto Per farlo Bene Ma noi Non i polmoni Quindi Cazzo Ok Hai fatto Fermi Serietà Serietà Signore Altrimenti Perdiamo Tutto il pubblico Che 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 Ti fa Misera Umbris Ti concentri Sull'odore Che hai seguito Fino adesso L'odore Del Del fiume L'odore Del tamigi E cominci Ad annusare L'aria Annusi Quasi Più Di gli occhi E ti avvicini Alle pareti Del tunnel Dilati Le narici Quasi Ripercorri Il tunnel Toccando E a un certo punto Sentì Qualcosa Che ha un odore Più forte Che l'odore Che riconosco Del tizio Sì Cosa Direzione Dell'odore A pochi passi Dali tuoi piedi Verso il basso Verso destra Sinistra Dove Verso il basso Cosa c'è lì Mi chino Per controllare meglio Che sta rosicchiando Un pezzo di carta Prendi il topo Prendi il topo Questo topo Tu prendi il topo Che se ne stava tranquillamente A rosicchiare Questo pezzo di carta Avverte la tua mano Fa un Un verso Di panico E tu lo sollevi Con questo Pezzo di carta Che tiene tra le mani Lo giri Lui ti guarda Con occhi sbarrati Con le sue zambine Che tengono Questo pezzo di carta Lo annusi Il topo Non odora di niente Per te Ok Non è l'odore Che sto seguendo Ma il pezzo di carta Io come Eh glielo spiro Mi spiro Il pezzo di carta Il pezzo di carta Tu lo spieghi Non mangio il topo Non mangio il topo Sottolineo Non mangio il topo Grazie per averlo Non vogliamo Che la feta Che la feta Ci venga A rompere le miglie Umani Sì Topi no Lo mangio il crespino Adesso Le dimensioni Sono quelle No C'erano abbastanza Un attimo Un attimo Si apro il foglio Libero il topo Appoggio delicatamente Per terra E apro il foglio Non hai mai visto Qualcosa del genere Non è qualcosa Che conosci È un pezzo Di carta lungo Bagnato Però Non Non si sta distruggendo Però È umido Ha delle tracce Di inchiostro Alcune sono Notevolmente Sviadite E riesce a leggere Solo poche parole Di quello che Una volta C'era scritto sopra Mission breakout One ticket 43 sterline Lo posso subito Poi mi concentro Per sentire Se ci sono altre tracce Dello stesso odore Io guardo Se ci sono le tracce Anche sul foglio Sul foglio Vedi la stessa Aura luminosa Quanto è fresca Quanto è bagnato il foglio? Oh no Lo dovresti sapere Tu perché lo chiedi noi Appunto Quanto è bagnato il foglio? Tanto è bagnato il foglio Tante sono le tracce Sono fresche le tracce Sul foglio E in questo momento Le tracce sono molto fresche Se ha bagnato il foglio Se ha bagnato il foglio In teoria deve Essersi lasciato anche Tracce di bagnato Per terra Sicuramente Perché non è possibile Che La Il foglio Ce l'avevi in mano Quindi le mani Si sono asciugate Ma loro non si sono asciugati I vestiti Altrimenti Altrimenti Si era in tasca I vestiti Sono ancora bagnati E quindi Lascia luce a terra Per forza Quindi Io provo a cercare Altre Altre tracce Non trovi assolutamente niente In tutto il tunnel L'unica cosa Che riesci a trovare Ecco il pezzo di carta Mi dice qualcosa Il nome Non ti dice niente Tu ce l'hai internet Sul cellulare Ma Guardo se c'ho internet Se riesci Tu lo osservi Questo foglio E ti rendi Immediatamente conto Del fatto che Non è un semplice Foglio di carta È uno scontrino Adatta Non c'è È sbiadita Potremmo cercare Questo mission breakout Forse Uno spettacolo Qualcosa Non lo so Un film Ecco Su Su google Un tiro di ricerca C'è scritto Un ticket Quindi deve essere Tipo un biglietto Qualcosa E' un bel tiro di ricerca Un successo Riesci a trovare Grazie al tuo cellulare Che miracolosamente Prende Perché siete sotto Il tamigi Vabbè C'è la magia Del 5G È la magia Del 5G Nel 2023 Ci sarà sicuramente Il 6G La ricerca Ti rimanda Ad un sito Di una serie Di escape room In queste escape room Dal sito Si tengono A South Kentish Town E poi ce lo scrivi Perché Poi ve lo scrivo South Kentish Town Mi viene da dire Kentish Perché Un saluto a Rob Ovviamente Un saluto a Rob Domani riprendi Allora Teoricamente Quindi questa Quindi questa È una Delle escape room Che ci sono Mission breakout Mission breakout Ci sta lì Mission breakout È il nome Dell'esercizio Che fa le escape room È scritto Di solito C'è scritto anche Il nome delle escape room E poi ti sei prenotato Quindi c'è Ce ne sono Tre Sul sito Ne trovi tre Elencate Sullo scontrino No, non sul sito Sullo scontrino Non c'è assolutamente Niente scritto A quel prezzo Sono tutte Allo stesso prezzo Tutte Allo stesso prezzo Sandy Sullo scontrino C'è per caso Una via O qualcosa Praticamente Tutto svegliato Se mi cerchi Se mi cerchi intorno A Darwin Che sta No, io no Io sto usando Ancora in Gino Principalmente Per terra Per sentire Se ci sono Anche C'è C'è Umbris Che ha Naso Naso sul pavimento Addirittura Sta ripercorrendo A ritroso Il tunnel Sì No, no, no In realtà Rimango lì Rimango lì In zona Non mi stavo Vendo Soprattutto Sento l'odore Allora Non c'è la data Di emissione Dello scontrino C'è Quando C'è Quando Ha Premotato L'escape room È tutto Troppo Rovinato Dall'acqua L'inchiostro È sbiadito Che ormai Gli uniche Parti Che riuscite A leggere Sono Mission Breakout One ticket 43 sterline Conosciamo una persona Che può fare cose impossibili Portiamolo a lei Lo metto in tasca E Vado Umbris Niente Senti qualcosa Assolutamente niente Arriviamo In fondo Di qui E Vediamo se ho ragione Procedete Continuo ancora Ad usare il mio naso E andate avanti Man mano che andate avanti Il naso di Umbris Percepisce Sempre meno La presenza del Tamigi Andate avanti Un piccolo Ascensore Accompagnato da una scaletta Sempre a chiocciola Si parla davanti a voi Risalite In un modo o nell'altro E uscite Non da un altro tubo Come Viverebbe da pensare Ma da una Specie di Prefabbricato In Molto moderno Molto moderno Con una semplice scaletta E vi ritrovate Di nuovo In città Solo che Guardandovi attorno Vedete da lontano Il Tower of London Vedete da lontano Il Tower Bridge E vi rendete conto Che siete passati Alla sponda sud Del Tamigi Ok L'avamo intuito Vabbè Me non mi dice assolutamente niente Non conosco l'Ondra Quindi Comunque Voglio vedere Su Google Maps Dov'è la posizione Dov'è la posizione Cazzi e Massi E dov'è la posizione Del più vicino Mission Sì la posizione Del più vicino Mission Break E vedere la posizione Del più vicino Altro luogo Della Della compagnia In cui si può entrare Tanto se cerchi Se lo cerchi Su Maps Ti compare sicuramente Perché Aspetta Controlliamo Comunque Sul prefabbricato C'è lo stesso Identico nome Del cilindro Quindi A di 1868 London Hydraulic Power Company No Ah C'è Non c'è Non c'è Non c'è È una struttura Abbastanza anonima Quasi Non l'avreste notata Se non Ne foste usciti Ci ora sono In tutto ciò In tutto ciò Avete cominciato Praticamente Diciamo che Avete cominciato Alle 4 Perché era Tardo pomeriggio Adesso Direi che Sono quasi Le 6 di sera Qualcosa che Non mi conta Con gli orari Direi che Possiamo No 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 Ma Era Come fa Essere le 6 di sera Se Prima di entrare nel tunnel Mi hai detto Sanni Che l'onda Si sta Addormentando Non ha senso Perché È comunque Autunno Le ore Più Buie Iniziano Prima Sì ok La movida Non la conti Io vado A sbruzzarmi Anche se sono le 11 Ma anche D'inverno A prescindere La movida Siamo nei quartieri Di anziani Quelli che vogliono Dormire alle 5 Di pomeriggio Ok Vabbè Diciamo Diciamo Che quando avete Cominciato Allora Diciamo che Quando avete Cominciato Questa ricerca Era l'orario In cui la gente Diceva Ok Torniamo a casa Lavoro Tempo di Tornare a casa E vanno subito A sbronzarsi In un pub Adesso Ok C'è molta più gente Ok Non mi tornavano Gli orari La prossima Posso fare Una conoscenza Comune Sull'escape room Magari Lo sentito Greffo Muldo Su quell'escape room Dai Tu sei londinese Vai Pallo Un altro tiro Che io e Umbri Se non rifaremo Io magari Io so Io vengo Dall'America Io te lo faccio In conoscenze comuni Voglio farlo In occulto Per vedere Se posso Per vedere Se c'è Qualche storia Qualcosa Che gira Intorno a questo Posso Io conosco Poco Londra Conoscere bene Le fogne Questo è un doppio oscuro Ma di chiacchia che hai fatto Ah Fatto 11-10 Quale prendiamo Quale vuole Signore Ho fatto Ho fatto Un 11 Sul dado Normale E un 10 Sul dado Sul dado Del destino Della vita Della morte Dei miracoli Dello oscuro Quindi Della rinascita E dell'incarnazione Oh mio Esatto E mi sa che mi tengo L'11 Il tuo obiettivo Hai detto È quello di sapere Se ci sono Delle leggende Legate A questa struttura Da cui vi siete appena Riemersi Non ci sono Assù No Non questa Non questa Che siamo riemersi All'escape room Ok Che magari è stata costruita In un posto Che era infestato Cosa del genere Ok Sì 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 South K Fentystown Station È una vecchia Stazione metropolitana Dismissa di Londra Una delle tante Una di quelle abbandonate Ma a differenza Delle altre È stata recuperata Cosa che riesce a intuire D'altro Non è dall'escape room Ma la cosa che tu sai Di Londra Poiché è una leggenda Che si vocifera Tra gli appassionati Dell'occulto È che in quella stessa Stazione Spari una persona Un uomo Che si vociferava Fosse Stato lasciato Per sbaglio Dal Dal pilota Della metro In questa Stazione Dismissa Per poi Ripartire E lasciare Quest'uomo Da solo Che non venne più ritrovato Oddio Conosso questa leggenda Angela Proche Oh bene Potremmo avere a che fare Scusa Sanni Proprio questo dovevi scegliere Ti odio Beh Potremmo avere potenzialmente a che fare Con un treno a fantasma Un wendigo Oppure uno spettro Perfetto Tre cose da poco In poche parole Domanda Dica Sono di cosa stanno parlando Perché io non penso Quello che hai elencato Quello che hai elencato È elencato Arwan Wendigo Treno fantasma Spettro Generale Spettro Fantasma Spettro In maniera di sì Gli altri due È un fantasma Un treno fantasma Puoi intuire Puoi intuire Un treno Che è un fantasma Un treno Puoi intuire Per associazione Che cosa può essere Un Per un wendigo Hai un Un brivido Hai un brivido Ti viene un brivido Lungo la schiena Al Sentire Pronunciare La parola Wendigo E non sai perché Di preciso Cosa sarebbe Un wendigo Agli altri due Ci posso arrivare Tranquillamente Ma Un wendigo Allora Allora Arwan ha studiato Cose del genere Quindi almeno Le leggende Più comuni Penso le sappia Sì sì le sai Le leggende Ok bene Allora vado a ruota Libera a spiegare No io Vabbè io lo so Giocatrice Magari spiegalo Anche ai Spiega Spiega La spiego Alla chat Intanto Io però vorrei Incamminarmi Verso i tre alberi Mentre Discutiamo Sono d'accordo E si incamminarono Un wendigo Un wendigo Sostanzialmente Quando una persona Quando una persona Ha così tanta fame Da iniziare a mangiare I suoi simili Diciamo che Gli spiriti Dilla montagna Mi pare Sì Montagna Foresta Di solito Una cosa del genere Non la prendono Tanto bene Quindi Maledicono La suddetta persona Trasformandola In un umano Più alto Pelle rossa Più grosso Con una fame Della Umbres Quanta fame hai? No Riesco a tenerla Tranquilla Ok Moltiplicala Per cento Non sarebbe Una vita Malaccio Quella Esatto E Se un wendigo Diventare un wendigo Ok Non so se funziona Anche per i pesci O per le lucertole Sapevo che funzionava Solo per gli esseri umani Però Se un wendigo Morde Un altro essere umano Almeno Non ho idea Se funzioni anche Con i fatati Quest'altra persona Viene infettata E diventa un wendigo A sua volta Tipo zombie Tipo zombie Solamente che Se ammazzi un wendigo Che ti è morso La malizione Si spezza Sono immuni A tipo più o meno Tutto Tranne il fuoco Quindi facciamo scorta Di alcol Accendini E bottiglie di vetro Poi nel frattempo Vi state Oh mio dio Incamminando Verso i tre alberi Camminate Camminate Percepite Mentre andate Verso i tre alberi Un Via vai Più Teso Del normale Ma Nulla Si interpone Tra voi E i tre alberi Semplicemente Qualche volta Vedete Riuscite A vedere Con la coda Dell'occhio Ad intuire Che Vi è appena Passato Accanto Un Un elfo Un gile affilato Un altro elfo E poi Arrivati I tre alberi Bene Allora Com'è andata Buone notizie Spero Mi asciugo La bava Che sta uscendo Fuori Più O meno C'è un certo Movimento Di gili affilati Sapete Se è successo Qualcosa Ah Sì A quanto pare C'è stato Del trambusto Che vi lancio Un occhiataccia A South War Bridge Ah beh Sì Sempre meglio Del trambusto Che un'altra Vittima No Che diavolo Avete Che diavolo Avete Combinato Noi non eravamo lì Noi non eravamo lì Noi eravamo qui Giusto E mi ricordo Che ho perso Gli altri In questo momento Sono F4 Basito Sconcertato Non so Capito Cosa diavolo Ha fatto gli altri Mentre ero in acqua Appunto Te non eri lì Eri in acqua Passando a discorsi più seri Io ignoro Cramurosamente Calibri No 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 Grazie Che mossa Carino Non farmi toccare La tua faccia Cosa avete fatto? Hai presente Mi sa che ci giriamo tutti A guardare Crespino In questo momento Abbastanza Mentre io inizio A spiegare In modo nemmeno Troppo complicato Quello che Quello che è successo Però Hai presente Le due persone Che avevano Sospette sul ponte? Bene Appena Il tuo Sfidante Definiamolo così Ha deciso Di iniziare a correre Anche l'altra figura È successo Solo che Non erano in comunità Diciamo così Seconda domanda Perché state guardando Il bambino? Perché si è fatto vedere Prendo il mio guanto d'arma E glielo lanci in faccia No No Prima Prima Io mi tolgo Appena vedo che lo fai Mi tolgo Crespino E te lo lancio Contro il guanto d'arma Atletica Che cosa? Vai atletica Vai di atletica Però Umbres Mi devi fare un'agilità E un contrapposto Signori E te lo faccio Te lo faccio Anch'io Lo faccio Perché? Ho fatto un cazzo Te lo faccio anch'io Che non voglio Quella cosa in faccia Ho visto un pareggio No mi sfugge No non uso belli Per questa cagata No Perché io Me la prendo Però ho visto un pareggio Scena A rallentatore Scena A rallentatore Arwan Si Schiva proprio tantissimo No 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 Quello non era per schivare Era per lanciare Crespino contro il guanto E parli con Crespino No 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 Crespino l'hai lanciato Vabbè Crespino l'hai lanciato Tranquillamente Però L'hai hit Ora non mi stavo Esatto Che Scena a rallentatore Il guanto d'arma Sfiora Crespino Vedo la vita Che mi passa davanti Vedo la vita Che mi passa davanti Crespino Lo schiva Cioè Ce l'ha qui Ho detto che Arwan No perché Anche Arwan Si è messo Arwan c'è Allora Scegli È quel set Che hai fatto Per schivare Sto cazzo Di guanto D'arme Del Del dio Oppure No Dipende Cioè O lancio Crespino E lo becco Sul guanto Oppure Faccio tutte e due le cose Ne tiro un altro Oh oh Vai Così Proprio perché Qualcuno qui Vuole male a Crespino Un altro successo Ha fatto un 5 Ho fatto tutte e due Ho lanciato Crespino E mi sono tuffato Bene Io posso sgusciare via Della sorpresa Scusami Prima di essere Lanciato malissimo Tu schivi Tu vieni lanciato E vieni lanciato In avanti Schivi In aria Questo guanto D'arme Atterri Il guanto D'arme Cade anch'esso Per terra Con un grande Frastuono E Arwan Ce l'ha Praticamente Fatto E l'è caduto E l'è caduto Ai piedi E non lo tocca Manco Questa Poi a lui Se lo tocca Chi dello Puoi avvertire Prima di lanciare Un guanto di sfida Molto pesante E ringhiando Di uccidere I tuoi compagni No no In realtà Sto ringhiando Fortissimo Contro Crespino Oh signore Di Dio Che vecchio Cioè In ogni caso Il pianto finto Dei bambini Quando Fanno qualcosa Di male E non si vogliono Far sgrillare Dalla mamma Quindi faccio Io più che altro Instant Faccio aprire Una camomilla Davanti ad Eloise Instantaneamente Cioè Inizio Perché la vedi La vedi La vedi Che c'ha Tu in quel momento Vedi Eloise Con gli occhi Che iniziano Ad illuminarsi Oh no Non di nuovo E I pugni Chiusi Così tanto Che comincia A vedere Del sangue Sul bancone Io si vedo Fortissimo Fri Spiro In questo momento Dopo gli urli In faccia Ma cosa c'è Io vado Vicino ad un tavolo Pronto Io vado vicino ad un tavolo Pronto Mettermi sotto E ripararmi Io nel dubbio Seguo Arwan Così Io sono di cazziatura Nemmeno un merito Troppo in cazzatura No 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 Adesso Fri Spiro Fri Spiro Cara cavaliera Si merita la cazzatura Dopo si è andata dal bubio Si lo merita Sguardo basso Fate silenzio La voce di Eloise Rimbomba In tutto quanto In tutta quanta La taverna E se prima Umbres stava Dicendo Stava in vendo Contro Cri Spiro Nel momento stesso In cui Eloise Dichiara Di fare silenzio La voce Li muore in gola Guardo con noi In questo momento La stessa cosa vale per Cri Spiro Vi ho dato una missione Vi ho dato Tutti quanto Tutte le cose possibili Immaginabili E voi Vi fate vedere Non è così Che mi aspettavo portaste avanti Questo compo Forse non avete capito La gravità della situazione Se il concilio cade Solo il caos Ci attende E io non potrò fare niente Per aiutarvi Né io Né Agat Vi guarda intensamente E per ultimo Guarda Arwan A quanto pare Non sei così bravo A tenere In riga Gli altri fatati Quanto pare Ho fatto un errore di valutazione Te l'ho sempre detto Che io lavoro da solo Tu non puoi parlare Tu non puoi parlare In questo momento Nessuno Ha veduto che erano solamente Crespine e Umbris Nessuno di voi può parlare Ve ne rendete conto Ve ne rendete conto Nel momento stesso In cui provi a parlare Io la guardo Con uno sguardo di sufficienza Come per dire Non è vero un cazzo Lo sai che ti ho detto Un'altra cosa Forse dovrei Darvi impasto Al demone Che ho in cantina Forse lui Gradirebbe Un pochettino Di carne fatata Dopotutto Lo tengo a digiuno Da secoli Una risata Malevola Riccheggia Nel pub Forse Forse Ma non lo farò Potete parlare Potete parlare Non l'hanno Non l'hanno effettivamente Visto L'hanno visto passare Quella loro attenzione È stata catturata È stata catturata Dal mulinello Creato dal Con cui si è scontrato Un briss Sotto Devo chiamare Stato Entrando prima in una torre cilindrica L'hanno effettino L'hanno effettino L'hanno effettino È caduto Al cacciatore Che stavamo inseguendo Riesce a riportarlo Come era prima Che venisse riluminato Dall'acqua Vedi Su a che riluminarsi Questa non è acqua normale E fin quell'avevo capito Avete detto che c'è stato Un mulinello Nel Tamigi Sì Per quanto strano Possa sembrare Tecnicamente Sì lo è stato Ha cercato anche Di portarmi Contro il letto Del fiume È un odore Molto particolare Contro il letto Del fiume Descrivimi Cos'è successo Non è riuscito a vedere Un po' la sua pelle E i suoi capelli Lui ha detto Una cosa tipo Non dovresti essere qui E poi Questo mulinello Ha cercato di Portarmi verso Il dato del fiume Mi sono perso così All'improvviso Non ho fatto caso Cosa poteva fare Con le mani Una roba simile Troppo impegnato A vedere Come era fatto Vedete che lancia in aria Lo scontrino Questo Comincia A galleggiare in aria Sussurra qualcosa Sussurra qualcosa E Lo scontrino Comincia pian piano A separarsi dall'acqua Sotto lo scontrino E poco alla volta L'acqua Si amalgama In una specie di sfera In aria Questa non è Questa non è Acqua normale Non è nemmeno acqua Che è stata utilizzata Con la magia Questa è Acqua elementale No Per l'amor degli dei Qualcuno può aggiornare Noi ignoranti di magia C'è una differenza Tra L'acqua che viene utilizzata Con la magia Che viene In qualche modo Sottoposta alla magia E l'acqua elementale L'acqua elementale È propria Di spiriti della natura Spiriti D'acqua come le ninfe Fammi Domanda I sirenidi Usano la magia dell'acqua Alcuni possono Ok Io ne ho conosciuti Nel senso Come Umbri Si so come può funzionare La magia dell'acqua Sì Funziona Sì Sai come funziona Più o meno L'hai vista Non sai come funziona Precisamente Ma L'hai vista Utilizzare Mi hanno spiegato Mi hanno spiegato E lo disse anche Utilizzare Per quello Devi fare Un tiro di occulto Per sapere Effettivamente Come funziona No 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 Ok Però Nel modo dell'altro Ho questa conoscenza Un'infarinatura Un'infarinatura Ok L'importante Anche io sono Anche io sono Anche io sono Un po' studiato E imparato Però il tirano Occulto Te lo faccio Se posso Non lo so Se ho questo Tipo di conoscenza Nel mentre Non lo tirano Io prendo la parola E quando ha detto Quando Eloisa Ha detto Creature marine Tipo le nince Io mi mettono Subitamente La descrizione Che mi aveva fatto La descrizione Che aveva fatto Appunto Umbris Appena uscito Da Morinella Umbris Potrebbe effettivamente Corrispondere Alla descrizione Che abbiamo Del sospettato Ovvero Quello dei capelli Ehm Che ragione mulatta E capelli rosa Umbris Oh grazie giovani No Una naide Di solito Sono blu No Non è un Troppo poco Sapere Per capire Se effettivamente Una naide Una mezza naide Prendo lo scontrino Nel frattempo E lo guardo Santi domanda Quella quellì Ricordava l'odore Di alcina No Umbri Aspetta Aspetta Fammi un tiro Eh Di cosa Fammi un tiro Di Fammi un tiro Di Spirito Ah puro Basta Non esattamente L'odore Di alcino Ma un odore Che tu diresti Possa avere un tocco di ninfa Ok Quindi Mi ricorda Alcina Solo perché Fa parte della sua Razza sotto razza Robetzin Te lo fai notare Sì Ma non mi penso Lì che sto pensando Potrebbe essere una nina La cosa di sì Ho un sospetto Ma non Non Sentite Io non voglio Montare il dito Contro La ninfa Del Tamigi Il Tamigi Chi te l'ha detto L'odore Non inganna Un uomo Allora non poteva essere La ninfa Ma di certo Indica la Sfera di acqua Questa È l'acqua Di una ninfa O di un elementale Devo chiedere Conferma Ad Agath E Agath Andrà per me A chiedere Alla ninfa Del Tamigi Posso l'usare C'è Arwan E che C'è Arwan che scopri Una piccola risatina Lì vicino al bancone Mi sa che Forse Ho capito Come sono andate Più o meno Le cose Dal racconto Di Ubris E da tutto Il resto Per caso La ninfa Del Tamigi Non vede Molto di buon occhio Le sue sorelle Del mare Oppure I vari Altri Animali Aquatici Marini Perché Un predatore Estraneo Nelle sue Acque Io sappia Io non ne so Niente Di quella lì Dopotutto Non esco Da qui Da un bel po' E neanche Sapevo Della sua esistenza Prima di essere L'unità Qui Arwan Ho appena detto Che ero un uomo Oh sì Ma Infatti Io Sto ipotizzando Che La ninfa Stasse proteggendo L'uomo Non che la ninfa Fosse l'uomo Oh santo cielo Che so che la senti Se la ninfa Fosse effettivamente L'uomo Nemmeno quelle Da scludere Le ninfe Uomo Uniche Più uniche Che rare Praticamente Una leggenda Beh Rare Non Impossibili Da trovare Credo Uniche Ce n'è una Agat Mi ha detto Che ce ne sono Almeno Una Ogni Millennio Ok Ma voi avete Viste Effettivamente In faccia La ninfa Del tamiji Per dire Che non è Un uomo Belpa magica Non si può Vedere in faccia No Quindi Dovremmo aspetta Agat Credo Per questa risposta Aspettate la pure Passiamo a questo Passiamo a questo Intanto E prendo lo scontrino E guardo Leggo tutte le vere informazioni Ad alta voce L'informazione No ma poi ve lo passo Sono Mission breakout 43 sterline One ticket Per escape room The lost passenger Comprato il giorno prima Quindi il 14 settembre Alle ore 23 Hai comprato il giorno prima Per essere usato Lo stesso giorno Oppure Per Per essere usato Qualche altro giorno Perché C'è la data in cui lo compri E la data Di In cui lo devi utilizzare Per lo stesso giorno Bene Ti faccio una prova di hacking Vai Per che cosa Sì Puoi entrare nel database Dell'azienda Per sapere Quel determinato biglietto Corrisponde Ad un ID E quindi questo ID C'è anche la persona O almeno una carta di credito Poi si può risalire facilmente Della persona che l'ha utilizzata Dai Dai fammi un Una volta Intelligente Ti do un Benny Per questo Ti do un Benny Molto intelligente Sì mi sa che lo userò Vai sì Perfetto Molto meglio Decisamente Molto meglio Allora Dopo Dopo Lo snake eye Di oggi C'è il doppio 7 Numero magico Anche si Anche si Quindi 77 Quindi I tacchi Le gambe della donna Signori Vedi Torna tutto Torna tutto Torna tutto Signori Tu cosa vuoi Scoprire Hai fatto un successo Comunque Perché non è un 8 In realtà È semplicissimo Se ce la faccio Voglio Entrare Nel database Dell'azienda Dal database Posso sapere Tutto Allora Per l'escape room Non c'è bisogno Di una carta Di identità A meno che Non ci sia Il dubbio Che effettivamente La persona Possa avere Dei problemi di salute Avere Dei problemi A stare chiusi In una stanza A stare nei spazi angusti Eccetera Magari Se si ha qualche dubbio Che sia Il dubbio Maggiore Ne o meno Se non ha Compagnato Devo lasciare Solamente Un nominativo Se pagano I contanti Se non pagano I contanti Sicuramente C'è il nome Sulla carta Vuoi vedere Se ha usato La carta Vediamo se ha usato La carta Sopra o sotto? Sopra Ha usato la carta Vai Nome Cognome Indirizzo Nome Kendrick Pacico Indirizzo Lo dico subito Carnaby Street Numero Numero Del Nome Numero Io voglio proprio Andargli a suonare In casa Numero 8 Interno 5 E Louise Che c'è? Mi sa che mi devi Delle scuse Nome Con nome Indirizzo Dalla persona Che cerchiamo E secondo voi Questo tizio È uno dei cacciatori Questo tizio È quello Che ha perso Questo biglietto Dove stavamo andando E aveva Quell'acqua sopra O cosa credi? Io credo Che vi state andando A ficcare In un casino Se quello È solamente Un tizio Qualunque Che voi Avete attaccato A caso Ci rimettete voi Ci rimetto io E Agat Ci rimette Il posto È proprio Per questo Che non andremo A dire nulla Falafel Andremo noi Oddio Mim master Oddio Sono troppo Sono troppo Vecchia Per queste Stronzate Quella L'abbia battuta La porta Si apre La porta Del pub Si apre E rivedete Una faccia Familiare Quale Delle sette Quale Delle sette Delle sette E' Delle sette Dave Vabbè Sì Ehi Loise Ah Ciao Berk Ah L'ho preso Com'è il signor Berk 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 E' questo ragazzo Che voi avete già visto Ma ovviamente E' questo ragazzo Dalla Dalla pelle pallida Con delle strane macchie Che assomigliano agli occhi Di una betulla Sparsi per tutto quanto il corpo Agli occhi Agli occhi verdi E i capelli rossicci Come va Tutto bene Ti ho portato L'altra Le altre birre Si si Lasciale da fuori E vai Cosa Dai la spalla La spalla Gli va bene Tranquilla Ok Stavamo controllando La stessa cosa Così E com'è Sì Tanto io l'ho Ma tranquillo Comunque potevo portartela Potevo portatela dentro Non sai Per me non c'è un problema Non sono come gli altri miei colleghi Che ormai Non vogliono più venirci qui No tranquillo Anzi Senti pure Prendete la tua Dose di acqua Serale Se vuoi Ok Io voglio vedere Io voglio vedere Se Burke Lascia Delle tracce Come quelle che abbiamo seguito Non è lui Non so Può essere In combutta Allora Tu Non vedi assolutamente niente Non lascia tracce Ai vestiti asciutti Si siede al bancone Prende Una bottiglia d'acqua E quasi È incredibile Il modo in cui lo fa Però non si Calcola minimamente L'acqua che vortica In mezzo alla stanza Sono distrutto Ma voi non smettete mai Di 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 essere vestiti così Io sono in felpa Io non dico assolutamente niente Voglio solamente Toccargli la faccia E buttarlo fuori da lì Perché Ho le palle tirate Che Beh Ah ho visto il vostro amico Giorni fa Sapete Quello vestito Da satiro Con le corna Eccetera eccetera E' sembrato parecchio giù Non ho avuto Non buona notizia Però È dovuto tornare a casa Prima della fine dell'evento Purtroppo Ah Peccato Ma comunque L'ho visto un pochettino Strano Sentite Non so Qualche cosa Vi fumiate Voi Tizi Ma Blatterava Di essere Uno Un vero satiro Di Essere Un Che esistessero Veramente I fatati Eccetera eccetera Ma l'hai visto Era strafatto Sicuramente Non lo metto in dubbio Ma Non lo metto in dubbio Ma Di solito Un amico Un musicista Non si la È un musicista Ha idea di quante cose si calano Quelli lì E anche se vuoi aiutarlo Tanto Beh La storia parla chiaro Comunque È arrivato San e salvo In America Dice Ha pure un jet privato A quanto pare Perché ci è arrivato Veramente Veloce Cavolo Forse avrei dovuto Seguire Seguirlo E accettare la sua proposta Mi ha proposto Di partire all'avventura Con lui Mi ghiro verso Eloise E faccio un passo Di lato e indietro Dal bancone Nel frattempo Eloise Che c'ha Allora Che c'è Non sta guardando Eloise Io Eloise c'ha La faccia rossa Ha la faccia rossa Proprio le guance Sono diventate Rughi Conde E si vede Lontano un miglio Che si sta Che si sta Trattenendo Io Io le sussurro Quando ha finito Lo uccidiamo insieme Non preoccuparti Aspetta che esca da qui Berg tesoro Vuoi un pochettino Di limone Nell'acqua No no Lascia perdere Lo sai Come cosa Che effetto Mi fanno Anche il limone È troppo zuccherato Per me Mi fa venire Lascia stare Solo acqua E Dopo un po' Lei Dopo che se l'ha coccolato Vedete Che comunque Li dà molte attenzioni Come se volesse In qualche modo Staccarlo Da voi Per non Per fare in modo Che Tutta la sua attenzione Sia Volta verso di lei E non su di voi Scusate Scusate Ho letto Un messaggio Da parte di Anna Scusate Bene Berg tesoro Torna pure a casa Ormai Ormai qui Non c'è niente Da fare E Mi raccomando Stai attento Agli estrani E quelle cose là Berg 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 La saluta Cordialmente Non fa Soiti convenevoli Tra amici Da un paio di Baci sulla guancia Ed esce Salutandovi Berg Spiegaci il tuo segreto Grazie Anche noi vogliamo baciare Sulla guancia Eloise Tu Tu vuoi farlo Tu vuoi farlo Io la voglio solamente Mangiare Quella donna Eloise Sì Cosa c'è E subito Non appena la porta Si richiude Non appena la porta Si richiude Lei Che prima Era tutta bella Cordiale Tutta delicata Eccetera No Subito Sì Mi devi delle scuse Ti ricordo Sì Sì Va bene Scusami Oh Adesso sono Mezzo fatato felice Cerca di rimanere Un mezzo fatato vivo Beh Conviene più a te che a me E mi faccio Aprire una birra Lei Te la apre No Me la faccio Apparire proprio Nel boccale Boccale da un litro Di pire Bene Bene Sentite Io Devo contattare Gat Vi lascio Alle amorevoli Pure di Assenzio Assenzio Esce Cioè esce Va nella retrobottega E al posto suo Vi ritrovate davanti Un ragazzone Piuttosto Bien piazzato Molto pallido Capelli Verdi Però vestito Molto elegante E con un Piercing E con una catenella Si lega Ad un altro Piercing Sull'orecchio Lui si mette Dietro il bancone Ha Braccia Concerte Davanti a sé Come un Vero bodyguard Quasi E vi guarda Domanda Io in cinque anni L'avrò conosciuto Assenzio Immagino La prima volta Hai visto È la prima volta Che lo vedi Mi sembra un po' Meccanico Nei movimenti Sì Ok Allora Ho già fatto Due più due Su chi O cosa Potrebbe essere Vado a Sedermi a un tavolo Beh Ho una proposta Per voi Signori E mi sa Che umbris Potrebbe esserne Abbastanza felice Si va a pestare Quattro No Direi più un sopralluogo Che andare a pestare Effettivamente Però Forse è il caso Di dividerci Un attimo Basta che Siamo tutti Orecchi La carne Sia ben Cotta Altrimenti che Lo siete più Il mio medico E Sentite Questa risata Viene Proprio Da Assezio Beh Direi che Prendo il telefono Possiamo Farci raggiungere Da Dave Mandare I due Più piccoli E più silenziosi Di noi E soprattutto Uno di quelli Che può volare A controllare L'indirizzo Che ho appena trovato E poi Quando ha abbassato La guardia Quando è andato A dormire Quando meno Se lo aspetta Vogliamo una visitina In breve Quando la casa È libera Vabbè Io Si può accedere Ti faccio Uno squello Giusto Esattamente E intanto Magari Noi Possiamo Inizio a comporre Il numero Chiamare Dave Farlo venire Qui tanto Ormai Dovrebbe aver Staccato Al lavoro E farci Dire Quello Che ci deve dire Che ve ne pare Come idea Che può fare Io sono Io sono Guarda Nella reazione Lui Abbassa Meccanicamente Il collo Guarda E piccoletto E là E là Cosa hai detto Scusa Non ho sentito Di nuovo Se sono nuovo Beh sì Appena Uscito Dalla dispensa Mi sposta Strano E' stata Crespino Sta dicendo Letteralmente Lo guardo meglio Voglio capire Se è fatto In modo diverso Tipo la pelle Sia qualcosa Di strano Allora Non ci vuole Un successo Per capirlo Ma la pelle Di assenzio È molto Chiara Quasi 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 vitrea Quasi vitrea Se la si guarda Attentamente Nel senso che Appare come pelle normale Ma se la si guarda Abbastanza lungo Riesci a vedere Quasi come se fosse Composta da piccoli Cristalli Che riflettono La luce E con questo Chiudiamo Questo terzo episodio Dei tre alberi Signori È mezzanotte In punto Esatto È l'ora delle Sottane Esatto È dell'ora delle Sottane Andro si insegna Yes Allora Non so se C'è ancora Leo In chat Però non credo Che vogliono Ammazzarti Burke Credo che vogliono Ammazzarti A noi Esatto Gliel'ho appena detto Gliel'ho appena detto In chat privata Ma se ne lo ripetono Ammazzatelo Perché una cosa Dovevate fare Una cosa Non rompere Le balle A Burke Voi Cosa fa Cosa fa Cosa fa Voi Lui Io sono Sì Io sono Un mezzo Fatato Esistono I mezzi Fatati Tu mi devi Credere Io sono Un satiro Esistono I satiri Cioè No no Ha detto Proprio Ha detto Proprio Ha detto Proprio Off game Ufficiale Esistono I fatati Guarda Come salgo Bene Le pareti Verticali Guarda In poche parole Allora Leo preparati Perché il primo tiro Di Anzi preparati Perché si becca due pallottole Probabilmente No no Ma cosa Pallottole Ma cosa Pallottole È il nostro Un caso Ogni millennio Così scemo Da non rendersene Nemmeno conto Sì esatto Sanni Sanni Ho fatto 16 danni a Leo Porta Sì 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 Se lo merita Ah sì L'ho incerto Che dice Che dice Eh Ho c'è Se ci sei Ma Ha detto No Non toccatemi il ragazzone Però Non l'ho letto Non vedo Da che ora L'ha mandato Non risponde Ma L'ho fatto Tempo fa Dimmi La locandina Deve essere Calypso E che è lì Che Generosamente Non so se l'hai vista L'immagine Che ho mandato In chat Di Non posso Perché altrimenti Si sbagasciavano Le cam Ah Guarda Hai presente Bacco Quello Va bene Sanni Sanni Conta Altre 21 danni Per Silvius Ma ragazzi Lo volete uccidere Ma scusa Spoiler Sì E' andato Trondidio Per diventare Una persona Migliore Appena Ritorna Sono una persona Migliore Morto Sì Esatto Vuoi per caso Vuoi per caso Comprare un car armato Per magari Passarci sopra Silvius Con quel car armato Non so Anche 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 No 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 Calma Allora Va bene tutto Ma un po' Di decenza Compro Direttamente un camion Di rifiuti Che costa meno Ed è più adatto Vabbè Direi che possiamo Staccare Sì E dopo questa Signori Io ringrazio Tutti quanti I giocatori Come al solito Sempre bravissimi Sempre bellissimi Mi voglio bene Avete fatto anche Una bella Una bella Ruolata Un applauso Vi meritate Una Applauso E poi Siamo Esatto Effettivamente Molto fiero Di quello Che ho fatto Ringraziamo Il mio naso Quindi Con vostro permesso Chiudiamo La campagna La ruolata Qui E Niente Ringrazio anche Tutti quanti Gli spettatori Che sono rimasti Con noi Fino all'ultimo Un bacione Ci ritroviamo Il prossimo mercoledì Qui con i tre alberi Invece A me le trovate Comani Sempre Alle solite ore Alle solite orari Buonanotte a tutti Ciao Mi dissocio 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 Mi dissocio